Buongiorno a tutti, mio più caloroso benvenuto, anche se la giornata odierna a Pisa non è delle più ridenti, anche se avete trovato la scuola in una fase di cantiere. Pregherei prima di incominciare i relatori della prima parte della sessione di questo pomeriggio di sedersi se possono in prima fila in maniera da aiutare lo svolgimento dei lavori. Mi dicono addirittura che qualcuno non sarebbe presente e quindi sarà opportuno verificarlo. Inaugura il convegno il saluto del professor Giampiero Rosati, prorettore alla didattica e preside eletto della classe di scienze umane, che porta anche il saluto del direttore della scuola, professor Fabio Beltram. Grazie. Sono qui a portare il saluto della scuola normale, a nome del direttore, il professor Beltram. Mi fa molto piacere essere qui a questa iniziativa, anche perché c'è qualcosa di simbolico nel fatto che si svolga in questa sede una riunione della società il cui presidente è un nostro docente e per il fatto che tra i relatori appunto intanto la cosa che colpisce nel programma è il fatto che ci sia una presenza massiccia di forze giovani, molto giovani anche, e che molti di questi giovani facciano parte di una niviata molto consistente di allievi del professor Ciosciola. Di questo la scuola gli è grata, del fatto di svolgere un ruolo fondamentale nella preparazione di giovani filologi, filologi della letteratura, e qui l'altro punto che voglio osservare, la ragione per cui mi fa piacere essere qui, io non sono un italianista, non ho nessun titolo per essere presente dal punto di vista disciplinare, se non il fatto che sono un filologo, mi occupo di letterature antiche, in particolare di letteratura latina, e essere presente all'inaugurazione di un convegno di una società che si chiama dei filologi della letteratura italiana, mi fa molto piacere perché evidentemente c'è un'opzione di metodo in questa denominazione che chi ha ideato evidentemente ha voluto marcare, il fatto che si studia la letteratura, ma la si studia anzitutto in termini filologici, sono convinto anch'io, come tanti, molti probabilmente dei presenti, se non tutti, che il modo migliore di fare, di studiare la letteratura, analisi della letteratura, anche critica letteraria, sia quello di partire dalla filologia appunto. La scuola ha una grande tradizione in questo campo, sia in decenni più recenti, sia in tempi più lontani, anch'io sono uno dei tanti nipotini di Pasquali, nipotini appunto molto in miniatura, e la lezione appunto dell'importanza della filologia nello studiare i testi letterari, è una lezione appunto che qui è di casa da molto tempo, direi da un secolo. Non vi rubo altro tempo, vi rinnovo i saluti, gli auguri a nome della direzione, e buon lavoro. Ringrazio per la sua presenza anche il professor Daniele Menozzi, presidente del centro archivistico della Scuola Normale Superiore, presso il quale è stata organizzata la mostra documentaria La nuova filologia, precursori e protagonisti, a lui darò la parola alle 16.30, quando inaugureremo appunto la mostra nella diacente Sala del Ballatoio. Quando all'inizio di quest'anno proposi al direttivo della Società dei Filologi della letteratura italiana, di organizzare a Pisa, in occasione dell'Assemblea annuale dei soci, un convegno che non avesse un tema specifico, se non quello generale, del confronto di metodi e indirizzi di studio, ma che fosse caratterizzato dalla partecipazione esclusiva dei più giovani studiosi della disciplina, dottorandi, dottori di ricerca, segnisti e via dicendo, raccolsi subito la convinta adesione dei colleghi Lucia Bertolini, Andrea Canova, Paola De Capua, Maurizio Fiorilla, Daniela Gionta, Daniele Piccini, che ringrazio vivamente per avermi coadiuvato in questa iniziativa e in generale per aver discusso con me idee e proposte nel nostro primo anno di lavoro alla guida della Sfli. L'idea, credo di poterlo affermare, è piaciuta anche agli altri soci ed è stata accolta con entusiasmo dai più diretti interessati, almeno a giudicare dal numero e dalla qualità delle proposte di intervento pervenute. La sfida a puntare senza remore sui giovani di qualità è stata del resto da sempre caratteristica costitutiva e arma vincente della scuola che oggi ci ospita. Il Comitato Scientifico del Convegno, formato dal direttivo della Sfli, ha vagliato nel merito, nella pertinenza e nella qualità le proposte ricevute e ha raggruppato le comunicazioni ammesse per temi, ambiti cronologici e orientamenti di metodo. Ne è risultato un programma denso e vario che impone la collaborazione di tutti e in primo luogo quella dei relatori per essere seguito e apprezzato nelle migliori condizioni. Ho insistito ripetutamente, e mi scuso se lo farò per l'ultima volta anche in questo discorso di apertura, sulla necessità del più rigoroso rispetto della tabella di marcia. I Presidenti di sessione hanno avuto disposizione tassativa di essere inflessibili. Gli scusi fin da ora l'aver subito questa ingiunzione dal Presidente. Abbiamo anche voluto, come si conviene a ogni comunità scientifica, che i risultati esposti fossero passibili d'immediata discussione e che la discussione fosse guidata da specialisti esperti non soltanto della nostra disciplina, ma di discipline direttamente attinenti, quali la storia della lingua italiana, la filologia romanza, la letteratura italiana. Ringrazio anticipatamente i discussant, scusandomi per il difficilmente evitabile forestierismo, per essersi sobbarcati a questo onere. Comunico che, per ragioni personali e impreviste, non parteciperanno al convegno i discussant e soci Giuseppe Frasso e Vincenzo Fera. Prenderanno il loro posto rispettivamente Lino Leonardi e Pasquale Stoppelli, che ringrazio in modo speciale. Il titolo del convegno, la nuova filologia fra tecnica e interpretazione, nell'alludere al titolo famoso del Barbie, intende suonare al tempo stesso scherzoso e serio. Non so, e per ragioni anagrafiche temo che non saprò mai, se tra i nostri relatori si cieli un nuovo Barbie. Ma è certo che se un nuovo Barbie è destinato a manifestarsi nella prima metà del ventunesimo secolo, è possibile che sia oggi tra noi. Intanto, trovandoci a Pisa, città dove il pistoiese studiò, fu normalista e allievo fra i tanti di Alessandro d'Ancona, abbiamo pensato che l'occasione fosse propizia per attingere alle ricchissime falde dei fondi librari e documentari della Biblioteca e del Centro Archivistico della Scuola e di offrire ai convegnisti una scelta emblematica di preziosi documenti che illustrano la storia della nostra disciplina tra 8 e 900, subspecie, per dire così, pisana. La mostra, che inaugureremo nell'intervallo di questa prima giornata e sarà visitabile domani, durante tutto il giorno, si intitola La nuova filologia precursori e protagonisti e si articola in quattro sezioni. La prima, il Magistero di Alessandro d'Ancona, a sua volta suddivisa in due sottosezioni, Alessandro d'Ancona e il contesto europeo e Normalisti allievi di Alessandro d'Ancona. La seconda, gli studi sulla poesia popolare da Alessandro d'Ancona a Michele Barbi. La terza, Michele Barbi, il giovane Contini e la nuova filologia. La quarta, Paul Oscar Christeller e la filologia umanistica alla scuola. Tra i documenti esposti, segnalo le lettere ad Ancona di Moussafia, Paris, Meillère, le lettere degli allievi Rain e Novati, i documenti relativi allo studio della poesia popolare, tra i quali la monumentale raccolta di canti popolari, oggi alla scuola, allestita appunto dal Barbi. Barbi di cui la scuola conserva per l'ascito anche la biblioteca personale e la preziosa collezione di estratti. Le lettere di Gianfranco Contini, futuro professore della scuola, allo stesso Barbi. i preziosi, drammatici e toccanti documenti dell'allontanamento dalla scuola e dall'Italia nel 1938 di Paolo Oscar Christeller e dei suoi personali rapporti con l'allora direttore Giovanni Gentile. L'idea della mostra e del relativo catalogo, comunicata ai miei tre collaboratori, Francesco Giancane, Martina Mengoni e Fiammetta Papi, precisamente come uno di loro mi ha recentemente ricordato il 12 agosto scorso, deve considerarsi una mia personale follia estiva, dei collaboratori più diretti e non solo invece il merito dei risultati scaturiti. Gli autori delle schede hanno cooperato con dedizione meritevole di encomio solenne, ma la mostra e il catalogo non avrebbero visto la luce senza l'altrettanto generosa collaborazione del personale della biblioteca e del centro archivistico della scuola, e in particolare del presidente del centro Daniele Menozzi, del bibliotecario Enrico Martellini e dell'archivista Maddalena Taglioli, che hanno agevolato le nostre ricerche, favorito il prestito dei materiali e sostenuto le attività propriamente organizzative. Un ringraziamento speciale a Maddalena Taglioli, conoscitrice impareggiabile dei fondi archivistici della scuola, e a Umberto Parrini, che ha eseguito le scansioni ad alta risoluzione dei documenti riprodotti nel catalogo. E grazie anche all'editore ETS e al grafico Vincenzo Letta, che si annoverano tra le altre vittime incolpevoli del mio colpo di sole. Abbiamo consegnato le ultime bozze venerdì pomeriggio. Il catalogo non c'è ancora, si spera che arrivi entro l'apertura della mostra. I ringraziamenti doverosi non si esauriscono qui. Per il loro significativo, generoso concorso all'organizzazione del convegno e della mostra e alla stampa del catalogo, devo ringraziare la Scuola Normale Superiore, la classe di Scienze Umane e il Centro Elaborazione Informatica di Testi e Immagini nella Tradizione Letteraria, CTL, diretto da Lina Bolzoni. Lina, oggi fuori sede, mi ha promesso di essere con noi domani sera e di partecipare al nostro incontro conviviale. Molti di voi hanno sperimentato nelle scorse settimane l'efficienza del personale e del servizio comunicazione e relazioni esterne della Scuola. A loro, e nomino per tutti Elisa Guidi, va il mio ringraziamento più sentito. Senza l'aiuto efficace e discreto di tutti, e aggiungo doverosamente e con piacere gli addetti alle Aule, il convegno non avrebbe potuto aver luogo. Come anticipato, i nostri lavori saranno trasmessi in diretta streaming, indifferita, per ragioni tecniche, le due sessioni parallele di domani pomeriggio. Dicevo della involontaria defezione, all'ultima ora, del nostro past Presidente, come direbbero i miei colleghi scienziati, Pino Frasso, il quale ha voluto indirizzarmi e indirizzarvi questo messaggio, con il quale concludo, augurando a tutti buon lavoro. Caro Presidente, cari soci, motivi che non dipendono dalla mia volontà mi impediscono di partecipare al convegno e all'Assemblea della Sfli. Vi prego di scusarmi. Mi spiace di non poter essere con voi, perché avrei voluto porgere di persona al Presidente, al Segretario e ai membri del Consiglio, i ringraziamenti più sinceri per aver organizzato una manifestazione che accoglie un così gran numero di giovani studiosi. Prova limpida di vitalità per le discipline che felicemente convivono sotto l'etichetta di filologia della letteratura italiana. E mi spiace anche perché, ascoltando gli interventi dei giovani colleghi, molto avrei imparato e certamente sarei stato contagiato in modo positivo dal loro entusiasmo. Con un augurio intenso, Giuseppe Frasso. Bene, buon lavoro a tutti, grazie per essere intervenuti e apriamo ora la prima sessione. Ho dato il buon esempio, credo, anticipando di molto sul orario previsto. Mi auguro che questo possa essere un'indicazione anche per i prossimi giorni. Grazie ancora a tutti. Grazie a tutti. Questo è stato un inizio davvero ricco di spinte propulsive per tutti noi. La prima sessione, in omaggio a Dante, nel 750esimo anno dalla sua nascita, vede nella sua prima parte un folto gruppo di interventi che gravitano tutti intorno ad argomenti danteschi. Sì, allora invito subito i discussant al nostro tavolo. Il professor Saverio Bellomo. Ora invito subito Giuseppe Alvino che ci parlerà del commentum di Pietro Alighieri secondo il manoscritto Barberignano 4029, paragrafatura, lacune, problemi testuali. Dunque, buon pomeriggio a tutti e ringrazio Claudio Ciociola e la Società dei Filologi della letteratura italiana per aver accettato la mia proposta permettendomi anche di aprire questo convegno. Dunque, del commentum di Pietro Alighieri, esposizione in latino sopra la commedia, esistono, come è noto, tre redazioni. La prima, tradita da quasi 30 manoscritti, è datata a 1340, mentre le altre due, molto diverse dalla prima ma simili tra loro, testimoniate da due manoscritti ciascuna, sono di datazione incerta. Per questo motivo non è chiaro né quale delle due sia anteriore rispetto all'altra, né se sia davvero Pietro Alighieri il loro autore. Se di quella che attualmente si ritiene la terza redazione esiste una recente edizione critica, Chiamenti 2002, per la prima ci si base ancora sull'edizione Nannucci del 1845, mentre della presunta seconda redazione non esiste ancora un testo critico, che sarebbe un punto di partenza necessario per dare una risposta ai dubbi sulla datazione e sull'autenticità delle due redazioni posteriori. La mia tesi di dottorato è proprio un'edizione critica di questa seconda stesura, che oggi siamo soliti leggere da una trascrizione da parte di Pagano, in parte disponibile anche online sul Dartmouth Dante Project, di uno dei due manoscritti, l'Hashburnham 841. Vedremo però come, ai fini dell'allestimento del testo critico, sia importante anche l'altro testimone, il Barberiniano 4029, della Biblioteca Apostolica Vaticana, in sigla B. Luigi Rocca, che individuò le tre redazioni del Commentum, lo riteneva una copia dell'Hashburnham. Come però osserverà Chiamenti, i due manoscritti sono collaterali, come è parso anche a me, almeno in questo primo anno di lavoro. E nonostante l'inferiore qualità del testo di B, quest'ultimo può essere utile per emendare le lacune, non solo meccaniche, e gli errori presenti in A. Osserviamo, dunque, più da vicino il codice B. Si tratta di un manoscritto cartaceo dell'inizio del XV secolo, 29x22 cm, composto da 184 carte. Presenta una scrittura bastarda rispetto alla Littera Testualis di A, che invece è collocabile alla fine del XIV secolo. Sia A che B sono stati probabilmente vergati da copisti dell'Italia meridionale. All'inizio di ogni capitolo, B trascrive i primi tre versi danteschi del canto di riferimento, mentre A cita solo il primo verso. Una delle particolarità interessanti del Barberiniano è la presenza, prima del trattato, di un preciso indice, in ordine alfabetico, dei nomi e delle cose notevoli. In una sorta di tabella che indica la cantica, il canto è addirittura la sezione del canto in cui il commentatore ha diviso il testo. Proprio per quanto riguarda le divisiones, questa seconda redazione ha un particolare che la distingue dalle altre due. Pietro apre sempre la trattazione di un canto con la divisio, ma solo in prima e terza redazione cita il verso dantesco che chiude ciascuna delle sezioni. E proprio questo discorso sull'importanza delle sezioni nel nostro autore ci avvicina al problema della paragrafatura nei due manoscritti. Come si è detto, A è in lettera testualis ed ha più miniature, sebbene in generale non siano molte rispetto a B, nel quale mancano ad esempio anche le rubriche in volgaria ad ogni capitolo. Il miniatore di A usa nei pochi capi lettera vari colori e come consuetudine alterna rosso e blu nei segni di paragrafo a piedi mosca seguiti da uno spazio. B probabilmente non aveva una importante destinazione e fungono da segni di paragrafo due semplici barri oblique inserite in un piccolo spazio senza usare colore. Eppure ci sembra che B abbia una paragrafatura di un maggior interesse testuale rispetto ad A. Mettiamo a confronto i due testi. Adesso nella cartellina dovreste avere un handout. Partiamo dal quarto canto dell'Inferno. Nella divisio l'autore specifica che il poeta divide il testo in tre parti. Siamo al punto primo. Triafacit, primo tangit del Limbo e Inferni in genere, secondo specialiter tangit del Ocolimbi, Ulbis Antipatres, Olimsteterunt. Terzo e ultimo tangit adequada male a parte, Dicti limbi, ubi fingit esse animas certorum agentilium virtuosorum. I segni paragrafematici di A dividono così il testo. Virtuosorum, paragrafo, ad primum veniendo, eccetera. Deoc plene videbitur, paragrafo, item messiam estertius quidicitur battismus sanguinis, eccetera. Etoc quantum ad primam partem, paragrafo, venio ad secundam, ubi autor, eccetera. E infine, ibitale in filosofum qui ut scribbit, isidorus de creazione mundi trattavit, paragrafo, item em pedroca in filosofum, eccetera. Ecco invece la paragrafatura del quarto canto, secondo B. Virtuosorum, paragrafo, ad primum veniendo, eccetera, come in A. Quarendo a Virgilio, utin fra in seconda parte dicitur, paragrafo, nun chigitur procedendo, circa hoc, eius primum dictum, dicittautor, quod vidit, ibo, ibi, primo, turbas, infanzium. E dunque rispetta un cambiamento della sequenza narrativa. Etoc quantum ad primam partem, paragrafo, venio ad secundam, ubi autor, come in A ancora. Etoc quantum ad secundam partem, paragrafo, veniamus a terziam et ultimam. Amore studioso talis scienzie, paragrafo, modo qui actor per poesiam, vulto stendere directum, se fuisse addictam scienza mundanam perfectam, fingit sedici, nunc ducera deam, per os poetas. E cambia qui ancora la sequenza narrativa, perché Dante sta per incontrare gli spiriti magni. E infine, denazione saracenorum, vigit in fama virtuosa mundana sinisi ipse. Paragrafo, secundario, dicittautor, quodum magis oculots elevaret, vidit alziorem gentem, e primo, Aristotele, em magnum illorum quesciunt. Ancora un esempio, ad Inferno XX. Così divide il testo B. Siamo ancora al punto 2. Narrabbo circa personas, sic per ipsum autorem nominatas. Paragrafo, ad primo migitur veniendo, ita premicto. et hoc quantum al primum, paragrafo, modo ad secondum veniamus, et hoc quantum al secundum, paragrafo, ad terzium, et ultimo veniendo, dico, e infine, de parma divinatorum, paragrafo, ultimo standit, cuomodo multemulieres, ecc. Il codice A rispetta come B le prime due sezioni della rivisio, ma non le ultime due, e inoltre divide varie volte il testo nel mezzo di citazioni, come in questo caso, dal decimo dell'Eneide, cos patre bena covelatus, arundine glauca, paragrafo, mincius, infesta, ducebat, ecc. oppure all'inizio o alla fine di una citazione, dimisto a greci, sincastris, eorum might, paragrafo, suspensio, rifilum, ecc. Esempri come questo del canto ventesimo sono molto frequenti. Abbiamo notato subito come la divisione in paragrafi di A non è coerente come quella di B, che rispetta maggiormente le sezioni individuate nelle divisiones, o almeno, come abbiamo visto nel caso di Inferno 4, intervalla il testo quando, all'interno di una sezione, è possibile individuare nei versi una sottosezione narrativa. La paragrafatura di A, invece, è piuttosto confusionaria. All'interno di un canto non intervalla quasi mai il testo in tutte le sezioni indicate nella divisione, e molto spesso, come abbiamo visto, separa parti che sarebbero invece tra loro coerenti. E se torniamo un attimo all'indice delle cose notevoli presente in B, potremmo riflettere su quanto le sezioni siano importanti nella percezione dei lettori, o addirittura all'occhio dell'autore, se, ipotesi però poco probabile, l'indice è una sua iniziativa. In molti punti, dunque, i segni a piedi mosca di A sembrano non essere altro che un'innovazione singolare del suo copista. E in sede di restituzione testuale si dovrà tener conto della più coerente partizione di B, dividendo eventualmente il testo in sezioni, quelle individuate nelle divisiones, e sotto sezioni ad esse interne. Quest'ultima divisione potrebbe addirittura corrispondere alla volontà dell'autore, se consideriamo la costanza delle divisiones e l'attenzione posta alle diverse sezioni dei capitoli. Passiamo ora a qualche considerazione sull'utilità di B dal punto di vista del testo. Va ricordato innanzitutto che A presenta delle gravi lagune meccaniche alle carte 158 e 159, e B può aiutare a colmarle. Ecco una delle stringhe di testo cadute in A e quindi ad oggi inedite. In tutte le parti mancantina non mi è comunque parso per ora di riscontrare riferimenti all'autore o alla datazione del testo. Cercando di delineare da un primo sondaggio un profilo del cropista di B, emerge subito la sua scarsa conoscenza di personaggi biblici, mitologici e contemporanei, visto che con una certa sistematicità commette errori quando si tratta di citare nomi propri. A Inferno 4 Labban diventa Balan, a Purgatorio 22 Clio Musa si univerba in Clio Misa, a Inferno 17 De Gianfigliazzis si trasforma in Degente Figliazzis e nel Purgatorio Buonaggiunta diventa Buonamente. Oltre ad essere meno colto, il copista del Barberiniano ci sembra anche meno intelligente e viene da sorridere quando si parla della conversazione della verginità di Piccarda e non della sua conservazione, lezione di A, oppure, parlando di Inferno 7 della tonsura dei capelli dei monaci, alla lezione Rasio, B sostituisce Razio. Insomma, spesso pare che il copista di B non sappia cosa stia scrivendo. Ma come sappiamo, spesso un copista meno colto e ingegnoso può risultare più fedele all'antigrafo, visto il suo comportamento più passivo rispetto al materiale che sta trascrivendo. In qualche caso, possiamo vedere i risultati positivi di questa passività. A Inferno 15, per B è, correttamente, Ovidio, l'autore del verso Inde genus durus sumus experience quela borum e non virgilio, come indica A. Quando si incorre in una citazione, però, normalmente commette più errori B, indicando spesso il capitolo sbagliato di un testo, a Inferno 10, ad esempio, il ventiquattresimo capitolo del libro di Giobbe, al posto del quattordicesimo, o ne indica l'autore sbagliato. Ad esempio, a Inferno 7, A legge E to confermare videtur salmista dicens domini enins un cardin est erre, mentre B legge E to confermare videtur salustius dicens duo enins un cardin est erre. Dunque sostituisce salustius a salmista. In questo caso sbaglia anche A, dato che il libro non è quello dei salmi, ma il primo di Samuele. Ma un conto è confondere due libri dell'Antico Testamento, un conto è confondere quest'ultimo con un autore romano morto nel 34 a.C., solo per una somiglianza verbale. Ma B è utile anche per individuare le lacune di A, dovute a volte assalti dallo stesso allo stesso. Ecco ad esempio la diviso di Inferno 23, punto 4 dell'end out. Autori no capitolo due principali ter facit. E A legge B legge In questo caso A aveva commesso un salto dallo stesso allo stesso a causa dell'identità della stringa testuale Tech Pars Durattusque e della parte indicata tra parentesi quadro e l'end out. Come abbiamo visto, in questa diviso viene citato un verso dantesco, contravvenendo alla regola della seconda redazione, ma non è l'unico caso. Va sottolineato tuttavia che lacune di questo tipo sono molto più presenti in Bicchena, che dunque dovrà essere ancora considerato il miglior manoscritto di questa stesura del commentum, ma in ogni caso va sottolineata la ovvia necessità, anche per tipologie testuali di questo genere, di non abbandonare il confronto tra i testimoni rassegnandosi a un piagevole testo base. Grazie. Bene, grazie per essere stato assolutamente nei tempi. Ora si può accomodare il dottor Vittorio Celotto dell'Università di Napoli Federico II che ci parlerà per l'edizione critica dell'ottimo commento al Paradiso. Prego. Salve, grazie di avermi concesso di intervenire. Proverò a illustrare i risultati di un'indagine condotta sulla tradizione manoscritta dell'ottimo commento al Paradiso, commento anonimo composto intorno al 1334. Un'indagine che sto conducendo in vista dell'edizione critica che insieme ad Axri sto preparando per l'edizione nazionale dei commenti danteschi. Mi concentrerò su due soli punti che a mio avviso consentono di riflettere su questioni di metodo ecdotico in particolare nell'approccio ai commenti, alla commedia e insomma in tipologie testuali consimili. Il primo punto riguarda il rapporto che questo apparato esegetico intrattiene con le sue fonti. Il secondo punto riguarda invece alcune strategie editoriali da adottare in presenza di varianti redazionali. Parto subito dal primo punto. Il metodo di lavoro dell'ottimo è un metodo prevalentemente compilativo. Si abbaga dell'utilizzo massiccio dei suoi predecessori, primo fra tutti nell'ordine dei creditori e il commento del bolognese Jacomo della Lana, che anzi per il Paradiso rappresenta l'unico antecedente disponibile. Ma oltre che della tradizione esegetica pregressa, l'ottimo si abbale costantemente di un gran numero di altri testi da cui trae informazioni di vario genere, è il caso di fonti storiche o lessicografiche, oppure che utilizza come pezze d'appoggio della sua argomentazione, è il caso soprattutto di fonti filosofico-teologiche dalla Bibbia ai padri della Chiesa. L'accertamento puntuale delle fonti di volta in volta utilizzate risponde a due esigenze primarie nello studio del commento. La prima di ordine storico-culturale riguarda la formazione intellettuale del commentatore, i libri a cui aveva accesso, il modo di servirsene, i suoi interessi peculiari. È chiaro, infatti, che l'originalità del contributo interpretativo dell'ottimo è misurabile, soprattutto confrontando la sua lezione con quella di chi lo ha preceduto. Il secondo motivo di utilità di una ricognizione delle fonti è invece di ordine più propriamente filologico. Vedremo, infatti, che il confronto con le fonti consente di sciogliere nodi relativi alla Costituzio Textus, altrimenti difficilmente risolvibili. Questo aspetto pone ancora un altro ordine di problemi che proverò ad affrontare. Ci si può chiedere, cioè, se è lecito, sempre, e se sì, in quale misura, ritoccare un passo sulla base della sua fonte. Per essere chiari, propongo una breve casistica di citazioni dell'ottimo che, qualora opportunamente contestualizzate, consentono di risolvere problemi testuali specifici. Al primo punto dell'end-out, il primo è un caso in cui il confronto con la fonte consente l'individuazione di un errore che è comune a tutti i sedici testimoni latori che riportano il commento. Si tratta di una chiosa al canto trentatresimo, l'ottimo parla dell'ultima visione dantesca come di un rapimento estatico e ne fornisce una definizione che vedete in grassetto nella prima colonna. Rapto è da colui il quale è secondo il numero deganatura di sopra. Questa è la lezione di tutti i codici. È evidente il non senso della proposizione. Il confronto con la fonte permette di comprendere l'eziologia dell'errore. La definizione consiste infatti nella traduzione di un passo riportato in latino nel commento di Jacomo della Lana nella seconda colonna rapto sest abbeo quod est secundum naturam in id quod est supra naturam in superioris nature. Si registrano quindi due errori lo scambio di naturam con numero e in più un banale so di un memo mem dal primo a secondo naturam. Ma c'è di più perché anche quella dell'ana in realtà ha una citazione in parte scorretta dalle questiones disputate e veritate di Tommaso che vedete nella terza colonna. Ora, come dovrebbe comportarsi l'editore? È chiaro che la fonte da cui prende l'ottimo è l'ana e non direttamente Tommaso. Non potendo naturalmente azzardare tentativi di ritraduzione dal latino al toscano antico si può almeno pensare di ripristinare la lezione secondo natura riportando in nota il testo latino secondo la citazione di Jacomo della Lana. Al secondo punto la chiosa è al canto ventunesimo dove Dante incontra Pier Damiani per spiegare il problema della predestinazione e dell'incapacità dell'uomo di comprendere il piano di Dio l'ottimo ricorre a un passo in cui Agostino spiega che Dio ha già predisposto tutto ciò che dovrà accadere. I codici dell'ottimo recano due lezioni bifide lo vedete nelle prime due colonne ho segnato in grassetto nella prima un passo che riporta riportato dal ramo alfa e non dal ramo beta. Quindi si ripropone nella classica questione la cuna del ramo beta o interpolazione del ramo alfa. La lezione di beta infatti sembrerebbe del tutto per spicua così com'è. Il ricorso alla fonte ci offre allora qualche ragguaglio. Si tratta del trattato sul Vangeco di Giovanni di Agostino e come si vede il passo di Agostino consiglierebbe di mettere a testo la lezione di alfa considerando quella di beta come una lacuna. Il passo di Agostino infatti riporta la frase di ramo alfa. Questa scelta in realtà però non ripara completamente dall'arbitrio. Il testo di beta risulta infatti tutto soddisfacente dal punto di vista semantico. Nulla vieta di pensare almeno in linea teorica che l'ottimo abbia volutamente tagliato il passo agostiniano per una particolare esigenza di sintesi. Questo ovviamente imporrebbe di ipotizzare che poi il capostipite ramo alfa abbia integrato il passo con il ricorso al testo di Agostino che è sì ipotesi poco economica ma che non si può escludere a priori. Nel terzo caso che vi presento invece una emendazio ex fonte risulta molto meno lecita. Siamo nel proemio al ventisesimo canto dove San Giovanni esamina come spesso nelle introduzioni ai singoli canti del paradiso l'ottimo si diffonde in lunghe trattazioni dottrinali sulle virtù corrispondenti ai vari cieli attraversati. Trattazioni che consistono spesso in elenchi di citazioni bibliche e patristiche. Qui per introdurre la virtù teologale della carità ricorre tra le altre a due citazioni di Agostino che ho riportato in eretto nella prima colonna. Si tratta della traduzione di due passi della doctrina cristiana. Il primo come si vede è sostanzialmente corretto nel secondo passo in primo luogo dobbiamo sforzarci di chiudere un occhio sulla pessima traduzione del commentatore ma ciò che conta è che manca un passaggio che vedete in eretto invece nella seconda colonna aut amplus diligat quod minus diligendum mestre. Il fatto è che qui come altrove l'ottimo non ricorre direttamente al trattato agostiniano la vera fonte dell'ottimo è qui l'incipit del trattato dei caritate della summa del dominicano Guglielmo Peragdo sulle virtù e i vizi opera che come noto godeva di amplissima circolazione nella Firenze del Trecento e che viene letteralmente compulsata dall'ottimo e da molti altri commentatori antichi. Qui come si vede la lezione dell'ottimo coincide integralmente con quella di Peragdo che viene riprodotto letteralmente e nel testo di Peragdo manca appunto quello stesso inciso che manca all'ottimo. Certo bisognerebbe verificare se tutta la tradizione della summa reca questa versione è chiaro che il confronto andrebbe fatto con i codici sempre con i codici che l'ottimo poteva effettivamente avere a disposizione. In mancanza di me io ho potuto controllare la lezione su alcune stampe quattro e cinquecentesche e su alcuni manoscritti presenti alla Biblioteca Nazionale di Napoli che sono tutti concordi in questa omissione. Il salto dell'ottimo non è a rigore da considerarsi un errore perché riproduce fedelmente quello della sua fonte diretta salvo segnalare tutto in apparato un intervento integrativo e in questo caso quindi da ritenersi improprio. Per mancanza di tempo salterò il passo successivo gli esempi fatti finora dovrebbero bastare a mostrare che un puntuale raffronto con le fonti permette di gettare luce sulla cultura dell'autore del commento mostrandoci come nell'ultimo caso ad esempio che la sua formazione dipende molto più da summe enciclopediche che non dalla conoscenza diretta della teologia medievale in più l'osservazione della stratificazione culturale che spesso una citazione reca con sé obbliga alla riflessione sulla maggiore o minore opportunità di intervenire sul testo evitando il doppio rischio di addebitare all'autore svarioni dei copisti oppure di attribuirgli una fedeltà alla fonte che invece va di volta in volta verificata. Per affrontare il secondo punto passo a illustrare brevissimamente la tradizione manoscritta del commento è tradito da 16 manoscritti il problema principale consiste nel fatto che due di questi presentano nella sezione regativa agli ultimi 5 canti una redazione parzialmente diversa più sintetica testualmente meno omogenea e caratterizzata da ampie interpolazioni ancora dal commento dell'ANA questi due manoscritti sono lo stroziano 160 e il plutei 4019 che è anche quello su cui è basata l'unica edizione attualmente disponibile approntata da Alessandro Torri negli anni 20 dell'ottocento quindi praticamente il codice da cui tuttora si legge l'ottimo ora la collazione completa del testimoniale consente di dimostrare che tutti i codici compresi questi ultimi latori di varianti redazionali discendono da un unico archetipo questo ovviamente esclude la possibilità che le due redazioni risalgano all'autore inoltre la ricostruzione dei rapporti genetici sulla base degli errori significativi denuncia con ottimo grado di probabilità la natura apocrifa delle varianti redazionali dei due codici ne consegue che la versione che essi riportano è stematicamente in fida e quindi applicando il criterio di maggioranza da scartare la versione attestata nei due codici va considerata un rifacimento spurio produttosi probabilmente per supplire a incidenti meccanici della tradizione tramite il ricorso ad altro materiale di che materiale è fatto questo rifacimento i due esempi che avete nell'end out presentano una casistica minima il primo è un caso in cui la chiosa dell'ottimo viene riprodotta dal rimaneggiatore salvo rimuovere la parte finale in cui l'ottimo commenta per rigettarla un'ipotesi dell'ana e che evidentemente viene considerata trascurabile dal rimaneggiatore il secondo invece è un caso in cui le chiose dell'ottimo e dell'ana vengono accorpate senza soluzioni di continuità mostrando quindi che il rimaneggiatore responsabile della versione che ho chiamato C1 avesse a disposizione forse un collettore di chiose all'otrie che conteneva quelli che erano gli unici due commenti disponibili allora sulla terza cantica sul paradiso ora come comportarsi in fase editoriale di fronte a queste varianti redazionali una volta accertato come si è detto che esse sono stematicamente minoritarie testualmente infide e quindi inservibili alla costituzione del testo la riflessione metodologica sui problemi ecdotici degli antichi commenti danteschi ha avviato soprattutto di recente una prassi editoriale tendente a un sostanziale conservatorismo data che la natura particolarmente attiva delle tradizioni si tende spesso a considerare l'opportunità di soluzioni di tipo bedieriano ovviamente sempre dopo un attento esame di tutta la tradizione affidandosi prudentemente alla testimonianza di un unico manoscritto che risponda a criteri di integrità testuale autoposizionamento nello stemma e coerenza linguistica rispetto all'originale ora proprio il caso dell'ottimo al paradiso potrebbe a mio avviso servire a ridimensionare l'enfasi con cui talvolta si è proclamata la natura attiva della tradizione dei commenti e a riabilitare invece una pratica ricostruttiva orientata cioè al testo più che alla realtà documentaria di un solo codice d'altro canto come è stato recentemente ribadito in un articolo di Lino Leonardi sulla critica del manoscritto base ma non sapevo che sarebbe stato qui a fianco a me nel meno l'ipotesi di fondare un'edizione sull'autorevolezza di un unico manoscritto emendato laddove necessario ripara del tutto almeno sul piano teorico dal rischio di allestire un testo stratificato dal momento che cito la possibilità di correggere il manoscritto base più o meno liberamente produce un testo che si colloca in posizione ambigua in un imprecisato retroterra del manoscritto base è chiaro quindi che tale retroterra si colloca di fuori sia della verità dell'autore sia della verità del singolo testimone si può qui allora assumere che nel caso dell'ottimo al paradiso sia sostenibile la legittimità di fondare il testo seguendo per le varianti di sostanza esclusivamente le indicazioni fornite dallo stemma mentre ovviamente la scelta di un unico codice non sarà messa in discussione per quanto concerne la facis linguistica del testo con questo ovviamente non si vuole trascurare la consistenza storica dei singoli codici come oggetti culturali né nel caso specifico si vuole negare l'importanza di spunti esegetici inediti che i codici di cui si è parlato talvolta recano e che vanno chiaramente documentati però provando a ragionare in termini di divisione del lavoro ciò che conta per l'editore critico è bagliare il contenuto e la qualità delle testimonianze a disposizione e a seguito di questo vaglio fornire appunto un testo critico Claudio Giunta scriveva in un recente intervento che la filologia non crede di poter dire l'ultima parola su un problema ma crede di dover dire la prima questa prima parola spesso appunto deve coincidere con un testo che si risponda a criteri ecdotici rigorosamente applicati ma allo stesso tempo lo restituisca a una funzionale leggibilità che sia un testo unico chiaramente intellegibile anche per chi filologo non è funzionale allo storico o persino al teorico della letteratura che vogliano trarre profitto da queste autentiche miniere di storia che sono i commenti danteschi grazie può accomodarsi Diego Parisi che ci parla della tradizione manoscritta dell'anonimo Lombardo prime indagini sulle glosse all'inferno il dottor Parisi viene dall'istituto storico italiano per il medioevo buon pomeriggio a tutti grazie ringrazio la società per aver accettato il mio intervento allora l'apparato notulare della commedia attribuito al cosiddetto anonimo Lombardo è costituito da un utiltro numero di glosse latine alle prime due cantiche del poema l'etichetta è di comodo sotto di essa sono ad annoverare interventi plurimi sul nucleo originario se forse di vero e proprio commento non si possa parlare certo è che una progettualità e coerenza pulminime emergono dalla rete dei riferimenti tra luoghi glossati o da glossare con le tipiche formule ut suprascriptum est o nota infra e dal tenore generale del dettato un'esegesi minima e puntuale la tradizione superstite più di 20 manoscritti tra completi e parziali latini a cui è da aggiungere un volgarizzamento e la convergenza con commenti antichi ben più impegnati primo tra tutti in lana suggeriscono una circolazione non irrilevante gli studi più recenti e nove erano l'anonimo lombardo a pieno diritto tra i più antichi commenti alla commedia per parte mia ho proposto per le grosse al purgatorio una datazione antelana qui proporrò alcune considerazioni sulla tradizione dell'inferno ho già analizzato in precedenza quello del purgatorio e per quello del purgatorio prima e per quello dell'inferno ora queste considerazioni si basano sulla collazione completa dei quattro manoscritti la torre delle grosse in forma continua cioè come testo autonomo rispetto al poema questo espediente operativo preliminare suggerito da Saverio Bellomo ho sottoscritto pienamente questo espediente operativo per una considerazione cioè che i testimoni in forma continua garantiscono una certa affidabilità rispetto alla copia del modello da ciò non consegue nulla ovviamente sull'originaria forma del commento dell'anonimo lombardo né sull'esclusione a priori dei manoscritti a glossa che in un passaggio successivo della recenza andranno senz'altro valutati almeno per loci selecti sulla base della recenza al purgatorio avevo individuato due famiglie di manoscritti una costituita dall'Oxoniense canoniciano 449 la torre del solo purgatorio insieme con altri commenti l'altra famiglia invece costituita da tre manoscritti il Sivilliano 5434 il Monacenzi italiano 48 e Lorenziano Pluto 90 superiore 114 avevo individuato inoltre una serie di errori comuni all'intera tradizione sulla base dei quali ho ipotizzato l'esistenza di un generatore comune su questi risultati qui ovviamente drasticamente semplificati e riassunti ho optato per l'edizione delle grosse secondo il canoniciano 449 in quanto unico rappresentante di un ramo della tradizione peraltro ramo tendenzialmente più corretto del concorrente per la tradizione per la tradizione dell'inferno andrà sostituito l'Oxonienze con un altro laorenziano la Shburnamiano 833 si tratta di una commedia a cui già in epoca prima del settecento sono state legate su rettiziamente nove carte in coda che tramandano il commento dell'anonimo Lombardo mutilo cioè da inferno 9 a inferno 34 c'è da sottolineare un aspetto che ritorna appone alle mie conclusioni cioè che la Shburnamiano 833 e il canoniciano 449 condividono la stessa mano la stessa materia scrittoria e la stessa mise en page la colazione di cui qui presento alcuni risultati riguarda dunque inferno 9 34 anticipo che si riconferma la famiglia Sivilliano Monacenze Laurenziano Laurenziano Pluteo sulla base di errori congiuntivi e separativi rispetto alla Shburnamiano nella foglio che dovreste avere davanti a voi discuteremo i primi due punti che sono due degli errori congiuntivi della famiglia Sivilliano Monacenze Laurenziano il primo riguarda una grossa inferno 30 37 39 una tipica grossa dell'anonimo dove si spiega un personaggio oppure un fatto mitologico in questo caso la grossa riguarda Mirra Scellerata leggo dalla Shburnamiano 833 e la lezione corretta Mirra figlia fuit cinarri de insula cipri cui concitate instinctum e fande libidinis et perversi amoris exarsit fornicari compadre suo è chiaro l'errore dell'altra famiglia in stuprum probabilmente per una cattiva lettura di di abbreviazione di titulus e poi vediamo il secondo punto a inferno 31 61 64 il punto 2 del foglio dove invece c'è una lacuna dei tre manoscritti a cavallo di due glosse a inferno 31 61 64 la prima glossa riguarda la spiegazione di perizoma e poi la glossa inferno 64 spiega chi sono i frisoni leggo sempre la versione corretta dall'asburnamiano perizomes vestis tegens genitalia usqua ad femur et abinde infra sicut vestes illorum cui severberant cunca tenis et sic a femure infra erant gigantes illi sub acqua subito dopo la glossa verso 64 frisones dicuntur cui sono defrisi a questi in Alamania verso septentrione leggo la versione erronea dal sibiliano perizomes vestis tegens genitalia usqua ad femur deac vestes abes genesis finestra quando adam et eva coniover un sese nudos dicit ibi quod fecer un sibi perizomata dicit magister historiarum hoc est bracas curtas et abinde infra sicut sunt vestes verberantium secum catenis quest in Alamania verso septentrione è chiaro è chiara la lacuna è la versione erronea dell'ultimo passaggio è anche importante notare come i tre manoscritti convergano anche in lezione buona cioè nella sostanza della glossa che si differisce dall'altro ramo della tradizione dunque anche sulla base di alcuni errori separativi della Shuburnamiano che non riporto qui per brevità di esposizione ma che ci sono una serie di lacune e anche errori separativi rispetto agli altri tre la Shuburnamiano 833 costituisce dunque da solo un ramo della tradizione come per il purgatorio l'Oxoniense risalendo dunque questo ipotetico albero che si sta delineando passiamo all'unica serie di errori comuni all'intera tradizione dunque verosimilmente afferenti al generatore comune c'è da fare una piccola precisazione cioè che il numero dei dati a disposizione dalla collazione all'inferno è in misura relativamente minore rispetto al purgatorio perché il commento dell'anonimo all'inferno è molto più breve e poi perché vista la caratteristica della Shuburnamiano che è mutilo le carte a parità di mano e di misampage rispetto all'Oxoniense si dimezzano abbiamo nove carte per la Shuburnamiano 18 per il purgatorio dell'Oxoniense quindi tendenzialmente i dati si dimezzano e per questo che è difficile trovare errori comuni tutta l'intera tradizione comunque questa serie di errori emergono anche dal confronto con la fonte dell'anonimo per questa glossa la glossa è a inferno 28 10 12 dove l'anonimo ricorre alle storie di Orosio per spiegare la lunga guerra che dell'anella fessi alte spoglie è uno dei pochi casi forse l'unico ancora che sono riuscito a decifrare sulle fonti dell'anonimo oltre ovviamente alle citazioni bibliche questo è l'unico caso in cui chiaramente l'anonimo riprende letteralmente una sua fonte dunque la fonte l'ho riportata alla fine delle colonne di trascrizione dei manoscritti dall'edizione critica del Belletto le storie di Orosio libro quarto leggo la versione dell'Ashburnemiano nella prima colonna in eretto sono gli errori e canullorum spoglia fuisse di cuntur in pugna canensi annoenima burbe condita con gentium decim Lucius Emilius Paulus e Puglius Terenzius varron consules in pace a baronis consulis infelicissime apud canna sapuglie vicium omnes et apud canosam pene romanes pei vires perdiderunt nan in ea pugna quadraginta quattormiglia romanorum interfecta sunt et ab exercitu annibalis magna pars cesa est prout in eo bello Emilius Paulus consulares et pretori viri viginti senatores velcapti veloci set riginti nobiles viri trecenti pedestres milites quadraginta milia equites tria milia quingenti baro consul cum es equitibus fugit venusium non continuo nella lettura perché poi la versione è corretta dunque questa serie di errori che ho evidenziato in grassetto sono sono patenti dal confronto con la fonte sono quelli più interessanti sono questo impaccia che negli altri manoscritti viene forse ricostruito a senso con impatria quando invece la lezione corretta sarebbe impazienza forse per una cattiva lettura o probabilmente per una caduta del titulus e poi anche questo prout che il civiliano probabilmente ha senso corregge in et e che anche qui è probabilmente una cattiva lettura o cattivo scioglimento della p abbreviata quando la lezione corretta effettivamente è per it anche baro consul cum es equitibus questa s diciamo è scorretta nel senso che l'appreviazione per quinquaginta la lettera per quinquaginta è una L probabilmente letta male è diventata una S l'altro uomo della tradizione ha senso traduce con suis dunque si tratterebbe penso di un caso interessante di emendazio ex fonte in sede di edizione e che quindi andrà fatta appunto nell'edizione che sto approntando per la per l'edizione nazionale dei commenti danteschi dunque per concludere mi sembra che a norma del criterio che ho adottato quello di cui parlavo all'inizio dell'intervento per l'edizione al purgatorio debba necessariamente proseguire per quello l'inferno con la predilizione della Aschburnamiano 833 sicché il quadro in prospettiva il quadro dell'edizione che si avrà sarà questo inferno 1 8 ramo sivilliano monacenze laurenziano pluteo inferno 9 34 Aschburnamiano 833 purgatorio oxonienze come nello spirito di questa di questo convegno ho illustrato il lavoro che sto portando avanti con il lavoro ovviamente ci sono i problemi il problema che mi pongo e che in un certo senso rigiro a voi nella speranza che eh è suscita una qualche reazione è proprio questo in relazione alla a questo quadro della della dell'edizione che si avrà questa soluzione editoriale non è forse troppo eterogenea considerando che l'altro ramo della tradizione invece tramanda i due apparati congiuntamente nello stesso contenitore una possibile risposta eh può venire la risposta parziale che ancora mi sono dato può venire dalla considerazione che facevo sui due manoscritti sulla Aschburnamiano e sul sull'oxonienze che sono della stessa mano stessa mise en page stessa materia scrittoria e a questo punto stessa posizione nello stemma dunque è possibile idealmente eh ricostruire questo contenitore così da ricostruire questo ramo unitamente per il per i due apparati a inferno e pulgatorio e dare un'edizione diciamo più omogenea vi ringrazio per la per l'ascolto e buon proseguimento prego Andrea Manzi dell'Università di Napoli Federico II con un lavoro su fra ecdotica e storia della lingua virtù che il celmo vesti a si bel punto canzone in lode di Enrico VII di Lussemburgo prego sì buonasera ehm come vedete ho preparato delle slide e avete anche un handout in cui troverete il testo critico della canzone di cui discuteremo e al termine nell'ultima della seconda pagina c'è anche lo stemma che vi consiglio di tenere sotto mano perché servirà nel corso del mio intervento eh rapidissimi ringraziamenti per aver accettato il mio intervento e tutta la mia gratitudine per poter essere qui dunque eh in un opuscolo pubblicato nel 1853 in occasione delle nozze fra Enrico Barberini e Teresa Orsini Sante Pieralisi bibliotecario della Barberiniana stampava virtù che il celmo vesti si bel punto una canzone che egli ritrovava nel manoscritto Barberiniano latino 39 53 B1 nell'edizione dei Robertis delle rime di Dante alle cui sigle farò riferimento d'ora in avanti una canzone che insieme al codice autografo ideografo di Nicolò dei Rossi e gli riteneva di sicura paternità dantesca di questa canzone che fin dal secondo frontespizio viene presentata come ornata delle glorie di Enrico VII e gli scrive benché la si fosse presentata senza nome d'autore l'età e il subietto la nobiltà della lingua e il libero andamento del verso l'aristotelica disposizione della materia e l'altissimo concetto platonico dal quale a principio la mostrerebbero figliola di Dante a chiunque già conosce per simiglianza allo spirito i lineamenti e le maniere che si ammirano in tutte le altre opere che nacquero da lui di virtù che il cel in realtà Carl Witte aveva già pubblicato nel 1826 i versi 109 115 affermando di aver trovato la canzone in un codice attribuito a Dante non oserei affermar suo legittimo parto ancora Witte nel 1871 pubblicherà le varianti del marciano italiano nono 191 mc1 rispetto all'edizione Piera Lisi aggiungendo anche informazioni talvolta errate sugli altri testimoni torneremo più avanti sulle ragioni a mio avviso fondate per cui Piera Lisi riteneva la canzone dedicata ad Enrico VII di Lussemburgo mi preme ora presentarvi innanzitutto i problemi di natura ecdotica e non che mi sono trovato ad affrontare nell'allestire l'edizione critica del testo per ragioni di tempo non posso purtroppo dimostrare la fondatezza dello stemma vi chiedo dunque di dare per buone diciamo a scatola chiusa le conclusioni cui sono giunto al termine della collazione Virtue che il Ciel è una canzone di 15 stanze di 12 indecasillabi le quali constano di due piedi di tre versi ciascuno e di sirma di sei versi lo schema è abc abc cddd e e sono dunque presenti sia la concatenazio che la combinazio finalis è inedito lo schema tutto indecasillabico e di 12 versi come in è così come inedita la sequenza di tre rime baciate nella sirma giuseppe marrani rilevava già come nessuno schema analogo si riscontri nel repertorio di pelosi contando solo otto esempi nella poesia due trecentesca distanze di 12 versi e suggeriva che l'esempio per la sequenza ddd nella sirma venisse dai versi 13 15 della dantesca le dolci rime d'amor l'unico corrispettivo di questo schema metrico afferma poi marrani può essere rintracciato in io non descrivo un'altra guisa amore di francesco da barberino che ha stanze di 18 versi di cui due sono comunque settenari le prime due stanze fungono da introduzione la terza è un catalogo delle virtù possedute dal signore ed ogni beltate adorno in sua persona di cui si tessono le lodi mentre le seguenti 12 stanze trattano ciascuna di una delle virtù elencate da aristotele nel secondo dell'etica nicomachea nel seguente ordine i titoli in latino in volgare come potete vedere sono conservati da tre testimoni b1 mc z ed mgl prudenzia iustizia fortitudo temperanzia liberalitas magnificenza magnanimitas amativa honoris umilitas affabilitas veritas e iocunditas la canzone è tradita integralmente dai già nominati b1 ed mc 1 nonché dal marciano italiano z 63 mc z dal maglia becchiano 34 1 da messi glato mgl dal canoniciano italiano 101 di oxford ox 1 dal palatino 202 della nazionale di firenze da messi glato pt 1 e dal ricardiano da ricardiano 1100 ovvero r 100 dalla poetica di tristino sono traditi soltanto l'incipit e versi 7 12 pt 1 codice ottocentesco è un descriptus esplicito di mc z la constituzio textus si fonda dunque su soli sei manoscritti la canzone possiede l'archetipo e lo stemma si articola in due rami ad alfa i cui testimoni nelle slide saranno sempre in rosso appartengono i collaterali b1 ed mc z a beta i cui testimoni saranno sempre in verde appartengono il recento tris e nella sottofamiglia gamma mgl e i due collaterali della famiglia delta mc 1 ed ox 1 che condividono anche delle glosse marginali ad essi peculiari gli errori guida sono di limpida lettura e ho potuto riscontrare appena tre casi di contaminazione fra mc z ed r 100 appena tre casi di trasmissione orizzontale sui 180 versi della canzone casi che a mio avviso non pregiudicano la costruzione dello stemma e la constituzio textus sulla base di esso per quanto riguarda le attribuzioni alla luce dello stemma si può pensare che la canzone fosse ad espota nell'archetipo e nei due subarchetipi come autorizza a pensare il fatto che essa è ancora ad espota in mc z ed r 100 l'attribuzione a dante di b1 sarà stata iniziativa dell'allestitore nicolo dei rossi ovvero della fonte da cui b1 dipende ed è motivata probabilmente da ragioni stilistiche è infatti assai forte la presenza della ligieri nel tessuto della canzone come già evidenziato da marrani lo stesso si può forse pensare per l'attribuzione a dante anche da parte di trissino canzone ad espota nella fonte è giudicata di dante dallo studioso per ragioni stilistiche virtù che il cielo doveva infine essere ad espota anche in gamma nella tradizione cui appartiene mgl fu attribuito a cavalcanti anche egli ben presente nel testo come nota ancora marrani nella tradizione di delta fu invece attribuito a dante indipendentemente dagli altri codici che la presentano come del poeta fiorentino come detto per alisi riteneva che virtù che il cielo fosse dedicata nel ricco settimo di lussemburgo e avanzava tale ipotesi basandosi solo sugli elementi interni del testo dal momento che la rubrica della sua fonte b1 non riporta alcuna informazione in proposito ebbene la dedica a un imperatore è presente nelle rubriche di altri testimoni della canzone in particolare nelle rubriche di quasi tutti i testimoni di beta di più come potete vedere r 100 che goda del che goda della più alta autorità stemmatica in beta nomina esplicitamente il rigo di lussemburgo possiamo dunque ipotizzare che la dedica all'imperatore fosse presente nella rubrica dell'archetipo che sia passata al solo subarchetico subarchetipo beta che in beta sia sopravvissuta in r 100 in gamma e quindi in mgl dobbiamo ora aggiungere a quanto detto sin qui che la canzone potrebbe essere andata perduta nel laurenziano con venti soppressi 122 l 122 in de robertis alla fine della cavalcantiana donna me prega vi leggiamo infatti la rubrica canzone morale fece guido cavalcante da firenze lo dando l'omperatore ma le carte che avrebbero dovuto tramandare tale canzone morale sono cadute de robertis ipotizza che tale canzone perduta potesse essere proprio la nostra virtù che il cielo e aggiunge che l 122 potrebbe essere un collaterale di mgl le due rubriche sono infatti molto simili e in entrambi i codici questa canzone morale presentata come scritta da guido cavalcanti in onore dell'imperatore segue donna me prega come che sia la dedica all'imperatore sarebbe dunque andata perduta in alfa e nel ramo beta soltanto nel frammentario tris e nel sottogruppo delta ricapitolando la rubrica dell'archetipo di virtù che il cielo non doveva riportare il nome dell'autore ma soltanto la dedica all'imperatore enrico settimo di lussemburgo la recenzio insomma ci porterebbe ad escludere categoricamente che la che la canzone sia da attribuire da dante a dante o a cavalcanti ma ci porta allo stesso tempo ad accettare l'ipotesi di piera lisi che essa rappresenta un lunghissimo elogio delle virtù possedute da enrico settimo l'autore di virtù che il cielo è dunque destinato per il momento a rimanere ignoto si pone però a questo punto una domanda cruciale i due rami della tradizione si presentano infatti ben distinti non solo sul piano della sostanza testuale ma anche dal punto di vista del colorito linguistico i due testimoni di alfa possiedono una patina spiccatamente settentrionale mentre i testimoni di beta possiedono una patina spiccatamente toscana al momento della scelta del testo base per il colorito linguistico ho dovuto dunque affrontare la questione della provenienza geografica dell'anonimo autore di virtù che il cielo autore settentrionale o toscano testo base da scegliere fra i testimoni settentrionali o fra i testimoni toscani della tradizione nel testo sono a mio avviso riscontrabili chiari indizi circa la provenienza geografica dell'autore analizziamoli uno per uno partendo da quegli elementi linguistici che portavano de robertis e marrani a ritenere veneto l'autore della canzone al verso 40 troviamo in rima la forma palleggia per palesa congeminata o scempia la forma congeminata è in b1 del recento la forma con scempia in mgl ox 1 ed mc z la banca dati ovi consente di ricostruire la mappa delle forme dell'emma palesare palesarsi sia in diacronia che in sincronia ebbene le forme palleggia paleggia come potete vedere dalla slide risultano essere esclusivamente toscane al verso 160 ancora in rima leggiamo careggia con l'accordo di tutti i testimoni come risulta dal tlio il verbo careggiare è esclusivamente toscano la prima attestazione registrata del 1342 in area senese nell'esposizione del simbolo degli apostoli di fradomenico cavalca poiché virtù che il ciel fu composta certamente prima del 1335 anno entro il quale fu allestito b1 ne consegue che la nostra è la prima attestazione dell'emma veniamo ora a una lezione di non facile interpretazione e che rappresenta a mio avviso la questione storico linguistica di maggiore interesse nel nostro discorso ai versi 157 159 leggiamo alto e possente cor che non vi leggia in che suo stato altero esser li piace ad equa il suo parere ad intelletto il rimante del verso 157 si presenta nelle forme villeggia nel solo b1 vi leggia mcz vi leggia beta marrani ipotizza che si tratti di una forma non attestata altrove del sostantivo vilezza ma a me pare che il contesto richieda un verbo è possibile allora ipotizzare che vi leggia vi leggia vi leggia sia un apax ovvero la terza persona singolare del presente indicativo di un postulato verbo vi leggere come noto il suffisso è già aree in italiano antico e assai produttivo e da origine a dei aggettivali e dei sostantivali che hanno il significato di comportarsi con la qualità definita dalla base basti pensare al verbo tiranneggiare assai diffuso fra due e trecento in tutte le aree dialettali italiane di più idee aggettivali e denominali aventi come base aggettivi o sostantivi che indicano qualità morali sono attestati quasi esclusivamente in toscana e sono quasi tutti degli apax legomena nella slide potete vedere a titolo d'esempio le attestazioni uniche dei verbi alteggiare baldanseggiare felloneggiare e gentileggiare sul piano morfologico dunque il di aggettivale vileggiare dalla base vile è perfettamente ammissibile e alla luce delle risultanze riportate mi pare perfettamente ammissibile anche che esso sia un apax di un testo toscano del quattordicesimo secolo la mano beta di b1 che probabilmente non intendeva la formazione morfologica non familiare al proprio tipo linguistico innova copiando con la geminata magari per ipercorrettismo il collaterale mcz scrive vileggia come è normale attendersi da parte di un copista settentrionale il cui antigrafo appartiene ad un ramo settentrionale della tradizione a testo ho promosso dunque il vileggia dei codici toscani di virtù che il cielo insomma i tre rimanti analizzati ci riportano alla toscana le forme paleggia e careggia sono esclusivamente toscane e sarebbe ammissibile la toscanità dell'apax vileggia se quanto appena mostrato ha una qualche fondatezza ulteriore prova della toscanità dell'autore di virtù che il cielo mi pare essere la forma safiede si conviene qui in rima al verso 66 e tradita da b1 del recento mcz e gamma condividono l'alexio facilior sassiede poligenetica e assai facilmente spiegabile sul piano paleografico ben quattro rimanti dunque sono forme linguistiche tipicamente toscane la stratigrafia linguistica del testo non consente a mio avviso di individuare con maggior precisione l'area d'origine del suo autore ma mi pare di poter concludere che la canzone sia stata composta in toscana entro il 1335 anno entro il quale come detto fu allestito il balberiniano di nicolò dei rossi i primi due versi dell'ultima stanza autorizzano poi a credere che all'epoca della composizione del testo la corona imperiale fosse già sul capo di enrico giocundo in maestà così possiede l'alta corona degna imperiale debito fine sommo desiando ora incoronato imperatore in san giovanni in laterano il 29 giugno del 1312 e lasciata roma per il ribaltamento delle sue fortune politiche il neo imperatore fu in toscana dalla metà del settembre del 1312 inizio del fallito assedio di firenze fino alla sua morte avvenuta a buon convento il 24 agosto del 1313 è il periodo di quella che nella princeps di virtù del ciel per alì si chiama la perfidia di arrigo si potrebbe allora ipotizzare che la canzone fu composta o da un autore toscano filo ghibellino prima che enrico muovesse contro firenze per contrastare l'opposizione guelfa fino angioina o da un autore toscano filo ghibellino nel periodo in cui enrico fu in toscana dopo la sua incoronazione imperiale magari dopo che si fu ritirato a pisa il 10 marzo del 1313 in seguito al fallito assedio di firenze l'unica certezza incontrovertibile che abbiamo e che il termino sante quem per la composizione di virtù del cielo è il 1335 possiamo tuttavia formulare una soggettiva con una suggestiva congettura combinando i dati ecdotici linguistici e storici che abbiamo analizzato e avanzare allora l'ipotesi che la lunga canzone in lode di enrico settimo massicciamente debitrice del dante del cavalcante dottrinali cavalcanti dottrinali potrebbe essere stata composta in toscana da un rimatore al momento destinato a rimanere nell'anonimato fra il 29 giugno del 1312 ed il 24 agosto dell'anno successivo grazie ora i nostri relatori sono diligentissimi siamo assolutamente nei tempi e quindi invito ad accomodarsi la dottoressa serene maria vatteroni della scuola normale superiore che parla di problemi di interpretazione nei sonetti di ventura marchi grazie allora buonasera sì come vedete avete sia la presentazione sia l'end out e sono uguali quindi potete scegliere quello che di seguire quello che preferite come vedete il mio intervento si propone di illustrare brevemente il valore operativo che la nozione di interpretazione elaborata da roncaglia riveste nella critica testuale portando alcuni esempi io cercherò di farne tre stavolta non danteschi ma tratti dal corpus di sonetti del cancelliere ventura monachi e dei suoi corrispondenti con il quale siamo entro il 1348 un corpus che è oggetto della mia tesi di dottorato allora vedete nella prima al punto zero o nella prima slide il passo di roncaglia un passo direi noto a cui faccio riferimento l'interpretazione dice lo studioso può definirsi diretta all'accertamento del testo mediante il ricorso al contesto sul postulato dell'immanente necessità di una stretta congruenza funzionale tra l'uno e l'altro quindi quando si ha a che fare con un corpus come quello del monachi cioè un corpus di componimenti a tradizione spicciolata di misura breve perché sono tutti sonetti e caratterizzati da un buon numero di asperità lessicali sintattiche e di contenuto è bene attenersi alla nozione roncaliana di coerenza contestuale per evitare di confondere lezioni erronee e lezioni ammissibili quello che in pratica bisognerebbe cercare di fare è fin dove è possibile di spiegare il testo per quello che è cioè per come la tradizione ce lo consegna mettendo in atto un'approfondita valutazione del contesto cioè di quello che roncaglia chiama il contesto immediato quindi delle possibilità grammaticali della lingua dell'autore e dei tratti stilistici che lo caratterizzano e del contesto remoto quello costituito da un lato dallo stile tradizionale del genere cui singoli testi si lasciano ricondurre dall'altro dall'intera tradizione letteraria e linguistica in cui si inseriscono e in questo modo dice roncaglia si attua il processo dialettico per cui il contesto guida a ritrovare l'esatta lezione del testo ovvero come vedremo nei primi due esempi a riconoscere come genuina la lezione tradita grazie allora il primo esempio vede in gioco il contesto inteso come possibilità sintattiche della lingua dell'autore siamo nel sonetto doppio di nuovo gli occhi miei per accidente che svolge il tema dell'amore secondario cioè del vagheggiamento temporaneo per una donna che non è madonna quella amata per prima siamo nell'ultima terzina in cui il poeta sancisce l'impossibilità dell'amore secondario prendendo coscienza di un dovere di fedeltà a madonna che porta con sé vedete al verso venti è con la paura di non ricevere in cambio alcuna mercede cioè alcuna dimostrazione alcun atto di pietà da parte di lei leggiamo brevemente direi soltanto il testo la parafrasi l'avete per comodità e celarmi da lui lui è amore che tutto vede non posso e coscienza mi rifiglia sì che piacer non figlia perché il dever con tema di mercede vedete che al verso venti la tradizione manoscritta conserva questo costrutto nominale con valore comitativo abbastanza peregrino è con costrutto che invece nella stampa filli viene obliterato dal rimaneggiamento del distico finale che avete lì accanto il costrutto con tema di più sostantivo positivo che in questo caso è mercede di cui non si rintracciano esempi analoghi nella banca dati del clio si può spiegare come è foggiato e contrario sul costrutto nominale con valore causale per tema di più sostantivo negativo che invece è un costrutto di ampissima attestazione anche nella variante verbale per tema di non più verbo con negazione espletiva di matrice latineggiante variante verbale che è presente tra le moltissime attestazioni anche nel corpus del monachi in un verso fuggo per tema di non essere giunta quindi io direi che come il costrutto per tema di più sostantivo negativo e variante verbale per tema di non più verbo si spiega si giustifica sul modello del latino timione quindi un temo che accada qualcosa che non vorrei accadesse anche il costrutto con tema di più sostantivo positivo si lascia giustificare in base al latino timio ut quindi temo che non accada qualcosa che vorrei accadesse in questo caso che madonna si mostri pietosa che perdoni il temporaneo cedimento quindi con le parole di Roncaglia ancora una volta questo costrutto con tema di più sostantivo positivo si dimostra strutturalmente ammissibile entro il sistema dato anche in mancanza di documentazione concreta ulteriore passando al secondo esempio questo entra in gioco la nozione di contesto stilistico quello che dicevamo Roncaglia intende come costituito dallo stile tradizionale del genere a cui testi appartengono e in questo caso per contesto stilistico bisogna intendere la speciale grammatica per così dire dei testi sdruccioli quindi quella sassonomia di esperimenti formali più che altro manipolazioni e virtuosismi di vario genere applicati ai rimanti sdruccioli questa grammatica che insomma io ho chiamato così nasce verosimilmente all'interno del genere retorico della tensione secondo la bella definizione di Claudio Giunta un genere caratterizzato dal gusto della complicazione della lingua e dello stile soprattutto in sede di fine diverso per la nota regola della ripresa delle rime ma questa grammatica finisce per scavalcare i confini del genere tenzone applicandosi anche ai testi sdruccioli cosiddetti monologici proprio in virtù dell'intrinseca difficoltà dei rimanti pro parossitoni che sono rimanti numericamente rari in italiano e morfologicamente esibiti come li ha definiti al Domenichetti qui vedete siamo nella seconda quartina di un sonetto che svolge il tema del sovvertimento dei valori morali e civili descrivendo i governanti come tiranni prevaricatori vedete veggio parlare un linguaggio barbarico scuro colorato e variabile veggio l'opera del figliolo di manastabile cioè di giugurta o di qual crudo fu il più privarico e qui quello che interessa è la forma che avete in rima al verso 8 privarico una forma sostantivale conservata in rima dal più antico gruppo di manoscritti fiorentini si tratta di un accorciamento del sostantivo invece di normale attestazione di insomma non è molto attestato ma lo è del sostantivo prevaricatore un accorciamento molto probabilmente modellato su forme di derivazione nominativale come ad esempio tradito per traditore che vi faccio notare è parossitono anch'esso in rima nell'incipito di un sonetto dialogato dell'angiolieri becchino amor che vuo falso tradito in questo caso il contesto linguistico stilistico del corpus ci fornisce due pezze d'appoggio in sede clausolare una nel sonetto dell'amore secondario quello che abbiamo visto prima dove il monachi usa in rima questo consente anch'esso piano per consentimento vedete e qualche sia cagion del suo consente cioè quale che sia il motivo per cui la donna gentile acconsente per così dire al allo sbocciare di questo di questo sentimento e l'altra invece che si deve a uno dei corrispondenti del monachi giovanni di lambertuccio fresco valdi e che si trova in un testo molto interessante perché uno dei sonetti responsivi del fresco valdi ha un sonetto sdrucciolo del monachi e questa tenzone interamente sdrucciola è a quanto mi costa il primo esempio quindi il più antico esempio di tenzone interamente sdrucciola che noi abbiamo e vedete che il fresco valdi qui descrive i veneziani secondo diciamo un costume abbastanza comune nella poesia così municipale del 2300 come quella gente dove non ha persevero modo nelle legge ma usanza ebratica e qui questo persevero è spiegabile come forma accorciata di della voce antica perseveramento da intendere come perseveranza nel bene quindi diciamo moralità la cosa interessante è che questa voce persevero si può spiegare anche a partire dall'infinito perseverare cioè si può spiegare come modellata su quei normali de verbali da infiniti della prima classe che costituiscono una risorsa rimica molto ben acclimatata in questa grammatica dei testi sdruccioli e qui penserei non tanto a una forma come volito per volo che è ampiamente sfruttata è presente anche in un sonetto monologico del monachi che però è anche una forma diciamo dell'italiano standard trecentesco attestata ampiamente anche in prosa penso invece piuttosto a un caso che mi sembra abbastanza eccezionale come quello che avete qui al secondo verso di questo madrigale della less di guido donati dove dice la dura corda e il velbruno e la tonaca gittar voglio e lo scapolo cioè lo scapolare che mi tien qui rinchiusa e fammi monaca una forma abbastanza eccezionale questo scapolo perché vedete essa trova legittimità grammaticale proprio nell'identità esteriore con un normale de verbale da infinito della prima classe e mi pare che questi due esempi che abbiamo visto da ultimo spieghino in qualche modo anche la variante se potete tornare per favore al punto 2 comunque ce l'avete qui la variante del manoscritto R.C. del Casanatense 433 al verso 8 del sonetto del monachi dove appunto il Casanatense legge l'opera del figliolo di manastabile o di qual crudo fe maggior privarico cioè compì le maggiori prevaricazioni una variante che io non promuovo a testo perché mi sembra sintaticamente facile e anche perché dato l'atteggiamento diciamo del Casanatense è sospetta va soggetta a qualche sospetto di rimaneggiamento ma che va detto è del tutto plausibile sul piano diciamo stilistico grammaticale sia che il sostantivo privarico venga analizzato come forma accorciata di prevaricamento sia che venga analizzato come de verbale da prevaricare e adesso spero di avere abbastanza tempo ma credo di sì farei appunto anche l'ultimo esempio al punto 3 l'ultimo esempio che illustra il ricorso al contesto remoto costituito dalla tradizione letteraria sia essa anteriore o posteriore al testo in esame in questo caso diciamo a me non è riuscito di determinarlo siamo nella sirma del sonetto doppio che Giovanni di Lambertuccio Frescovalli sempre indirizza al monachi per raccontargli un felice incontro d'amore con due contadinelle quindi vedete conclude nella sirma dicendo così in questa vita mi dimoro né altro argento d'oro non chero finché l'orviso non crespa quindi voce verbale al trago che di vespa appunto ma a morte il corda men due loro così ricco tesoro so ben che in pisa voi non a vespa con gli femmina vè per lo ber cispa e vedete che la tradizione più antica FL2 quello che ha il suo probabile descritto FN5 conservano una rima imperfetta ai vertici 15-20 crespa voce verbale cispa aggettivo rima sulla quale il casanatense 433 di nuovo con un atteggiamento abbastanza abituale interviene regolarizzandola e leggendo crespa aggettivo al verso 20 quindi RC con questo intervento che cosa fa? determina una rima equivoca una rima equivoca che diciamo riceve una buona plausibilità dal contesto immediato tanto del sonetto in sé perché fa il paio con un'altra rima difficile con un'altra rima cara che è una rima composta e per l'occhio che Giovanni usa nella fronte dove fa rimare si divelve con velve cioè guardalo guardalo e belve sia diciamo dal contesto immediato della tensione quindi della coppia di sonetti perché anticipa un rimante della rima ricca e derivativa crespa-discrespa del responsivo del monachi e tuttavia bisogna fare diciamo due considerazioni che invece vanno a vantaggio della lezione cispa che io scelgo di accogliere a testo innanzitutto già di per sé il contesto stilistico di questo genere di poesia che può essere dialogica come no di tono giocoso in cui il sonetto di Giovanni si inscrive ammette senz'altro anche la rima imperfetta a maggior ragione in un caso come questo mi sembra in cui questa rima crespa-cispa instaura un'artificiosa connessione retorica tra i testi di cui consta lo scambio perché FL2 e FN5 conservano una rima imperfetta nella stessa giacitura metrica anche nel responsivo del monachi e a definitiva conferma dell'originalità della lezione cispa mi sembra soccorra poi il contesto allargato della tradizione letteraria ossia della prima quartina del sonetto di Boccaccio per l'amata incanutita se gli avvien mai che tanto gli anni miei che è un sonetto che diciamo per adesso è stato soltanto dubitativamente attribuito agli anni napoletani quindi vedete tra i non pochi riscontri lessicali che vi ho elencato brevemente qui sotto e che mi sembrano documentare un sicuro rapporto tra questi due testi a dispetto indipendentemente diciamo dall'incertezza della cronologia relativa spicca il riscontro tra diciamo la sirma tra gli elementi che abbiamo visto contare nella sirma del sonetto di Giovanni e i versi 4-5 e crespo farsi il viso di Costei e cispi gli occhi bei proprio per diciamo l'analogo appaiarsi dei due elementi del viso rugoso e degli occhi cisposi quindi ecco diciamo concludendo in questo caso mi sembra che la rima imperfetta sia trovi legittimità e diciamo accettazione a testo sulla scorta non solo del contesto istilistico ma cosa che mi sembra più interessante anche di questo contesto remoto della tradizione letteraria vi ringrazio bene ora ascolteremo Laura Banella della Duke University che ci parla di riscrivere Dante fra 300 e 400 buonasera le rime di Dante sono una delle opere di maggior successo della storia della letteratura italiana si tratta come noto di un corpus dalla tradizione numericamente importante che ha informato in maniera pervasiva la cultura letteraria lo studio della trasmissione della fortuna delle rime della Lighieri attraverso l'analisi ravvicinata delle antologie in cui sono contenute permette di acquisire dati interessanti sulla ricezione di Dante e su come la funzione Dante si sia evoluta attraverso i secoli le antologie hanno infatti una doppia funzione ermeneutica ricevono e testimoniano un canone ma nel propagarlo a loro volta può accadere che creino nuovi significati e talvolta nuovi canoni si presenta quindi il problema del significato di un florilegio lirico e di ciò che differenzierebbe un'antologia da una miscellanea ancora vi è la questione posta dall'effimera distinzione tra semplici serie di liriche e sequenze più strutturate infatti in molti casi è difficile tracciare una linea netta tra serie e sequenze di liriche e anche capire fino in fondo le intenzioni di un compilatore l'estensore di una raccolta lirica può anche non aver avuto intenzione di creare una sequenza ma l'atto stesso di mettere insieme dei testi crea una collezione di liriche che formano una sequenza il cui significato complessivo risulta in fin dei conti maggiore della somma dei significati dei singoli pezzi d'altro canto anche la differenza tra miscellanee e antologie viene solitamente identificata proprio nell'intenzione del compilatore se il corpus è selezionato secondo un qualche principio riconoscibile si tratterebbe di un'antologia al contrario una miscellanea è un libro la cui selezione si baserebbe solo sui gusti estemporanei del curatore o proprietario o committente si tratta però di una distinzione che si rivela insufficiente al fine di comprendere l'ampia messe di situazioni che sono concretamente attestate nella storia della tradizione la maggior parte dei casi non può infatti essere nettamente ascritta all'una o all'altra categoria inoltre inoltre un volume può comprendere diverse tipologie di raggruppamento testuale rispondenti più all'una o all'altra disegnazione cosicché l'analisi di questo genere di libri non può che avvalersi di metodologie empiriche che dovranno adattarsi al caso singolo ad ogni modo la tensione tra le diverse istanze risulta sempre produttiva per la comprensione dei testi e degli attori coinvolti nel caso specifico di Dante delle sue rime una particolare attenzione dovrà essere dedicata alle rime dubbie e agli apocrifi infatti al fine di ricostruire il processo di creazione ed evoluzione di una funzione autore attraverso dati espliciti ma per lo più impliciti quali la costruzione materiale dei libri è proprio dove l'autorialità diviene ambigua che i suoi elementi essenziali possono emergere con maggiore limpidezza passiamo adesso ad un esempio concreto tralascerò i casi più noti di lettori danteschi del 300 tra cui vi sono Nicola De Rossi Antonio Pucci e naturalmente Giovanni Boccaccio credo sia più interessante prendere in esame l'antologia di un autore dal nome noto ma che ha attirato meno l'attenzione dei critici vediamo dunque il libro copiato dal musicista Andrea Stefani nei primi anni del 400 il manoscritto maruccelliano C152 di Andrea Stefani non si sa molto era probabilmente fiorentino vissuto a cavallo fra 300 e 400 nella sottoscrizione del codice riccardiano 1562 si dice cantore quindi forse era un ecclesiastico il codice riccardiano contenente il volgarizzamento delle storie di Orosio di Bono Giamboni ci suggerisce che non fosse un incolto di lui si conservano alcuni componimenti polifonici considerati di buon livello il manoscritto maruccelliano è un contenitore testuale decisamente spartano e approssimativo frutto probabilmente di un lavoro diciamo casalingo ma in cui ritroviamo alcune delle caratteristiche di cui siamo venuti dicendo il manoscritto si apre sotto il segno di Petrarca i rerum vulgarium fragamenta occupano i primi fascicoli del codice che riportano una numerazione originaria e sono divisi per generi prima vengono i sonetti e gli altri metri a cui seguono le canzoni tale divisione è operata dallo Stefani in maniera molto chiara e indicata ordinatamente attraverso le rubriche le rime di Dante sono incluse all'interno della parte meno organizzata del codice in posizione decisamente ancillare rispetto al canzoniere la numerazione ci dice infatti che le prime 70 carte contenenti rerum vulgarium fragamenta e le laudi dello Stefani con il racconto in prima persona delle processioni dei bianchi dell'agosto del 1399 insieme alla prima parte delle liriche sono frutto di un progetto in seguito invece la compagine si fa meno fitta e l'impressione è che non siamo di fronte a un codice organizzato ma a fascicoli che sono stati riuniti senza un ordine prestabilito il manoscritto contiene rime di Senuccio del Bene Franco Sacchetti Bruscaccio da Rovezzano Jacopo Cecchi Antonio Pucci Fazio degli Uberti e molti altri tra cui ad esempio troviamo anche Giovanni Fulgure e maestro Apollonio e Schermidore e Pulito scrittore di Messali da Imola è interessante notare che sono inclusi i rimatori della stretta contemporaneità il piccolo canzoniere di Bruscaccio ad esempio deve essere stato composto tra il 1393 e il 1409 questo manoscritto ci pone chiaramente di fronte alla materializzazione di quella che Emilio Pasquini ha definito l'oscillazione perpetua tra la funzione Dante e la funzione Petrarca del 400 un'analisi certo più puntuale di quanto si può fare qui potrà apprezzare questa dicotomia tenendo conto e della produzione del copista e di ciò che contemporaneamente accade sia dal punto di vista culturale che propriamente librario per ragioni di tempo vediamo in particolare solo la sezione dantesca trovate l'elenco dei testi in handout la serie si apre con la canzone apocrifa o patria degna di trionfalfama a cui segue la canzone trilingue I FAUS RIS questo dittico iniziale non è per nulla scontato la canzone d'apertura composta assai probabilmente da un guelfo bianco proscritto costruita con testere dantesche così scoperte che spingono il filologo moderno a dire che è troppo dantesca per essere di Dante doveva invece apparire a un lettore non di troppo alta cultura come lo Stefani un testo esemplare del poeta della commedia per quanto invece riguarda la canzone trilingue ricordiamo che lo Stefani era un cantore medicista e componimenti multilingui per quanto in forme differenti risultano legati all'ambiente musicale prima e dopo Dante ma proprio nel momento in cui lo Stefani sta copiando questo suo manoscritto la sequenza dantesca prosegue con 13 delle 15 canzoni del canone boccaccio in un ordine diverso inframezzate dalle tre canzoni della vita nuova infine dopo Donna pietosa lasciato uno spazio bianco di quasi due colonne forse per un componimento mai inserito sia la canzone apocrifa o alta prole del superno Giove rivolta a Ercole seguita da un sonetto attribuito a Zanobi da strada e dalla tenzone con Cino da Pistoia fatto interessante perché come ha messo in luce Pasquini la presenza di Cino non è usuale nel Quattrocento ed è spesso proprio come qui accade dipendente da altri corpora la serie così composta rivela gli interessi dello Stefani ed è esemplare di una tendenza diffusa in quanto il canone dantesco è costituito per la maggior parte da canzoni palesando così una preferenza per il Dante di stile più alto sono le composizioni nel metro più nobile a entrare nel canone della lirica trequattrocentesca e dunque in via preliminare si può dire che la funzione Dante risulta in questo testimone per lo più identificata con il Dante scrittore di canzoni in continuità dunque con la commedia come ha scritto Domenico De Robertis nella tradizione si vede bene l'affermazione soprattutto del prestigio e del primato delle canzoni seppure non in maniera sempre univoca mentre i componimenti diversi dalle canzoni sono stati oggetto di un'assoluta diaspora inoltre bisogna notare che nel manoscritto maruccelliano C152 non solo la vita nuova non è presente ma soprattutto non sono presenti i componimenti in essa contenuti se non le tre canzoni maggiori indice di una decisa selezione per generi tra le rime contenute nel manoscritto credo che una particolare attenzione vada riservata alla canzone trilingue I Faust Riss questa canzone così come Dante stesso la chiama al verso 40 non solo data la forma peculiare e il genere tutto sommato periferico è uno specie meno interessante per indagare come i testi poetici venissero copiati e poi stampati tra Medioevo e Rinascimento ma soprattutto rappresenta un esempio particolarmente importante per mostrare come la volontà degli editori e la loro interpretazione talvolta sovrainterpretazione dei testi possa forgiare la percezione di un autore dall'edizione di Michele Barbie del 21 in avanti fino alla nuova edizione critica di De Robertis nel 2002 la canzone trilingue è stata relegata tra le rime dubbie a dispetto del fatto che la maggior parte della tradizione l'attribuisca a Dante o la riporti anonima permangono peraltro ancora dubbi sulla paternità dantesca del componimento sulla base dell'anonimità e del suo proprio giudizio Barbie decise di privare Dante di questa canzone che se non è particolarmente rilevante per il contenuto lo è però per la forma tra 800 e 900 I.F.O.S. Ries era esclusa dal corpus rime di Dante per le sue peculiarità intrinseche ossia il contenuto non proprio originale e il forte sperimentalismo linguistico ma questo non sembra avere preoccupato i lettori premoderni che come lo Stefani non facevano alcuna fatica ad attribuirla a Dante e a inserirla all'interno della serie delle canzoni maggiori senza nemmeno rendere conto delle peculiarità linguistiche talvolta non in questo caso è presente la traduzione dei versi peraltro se nella maggior parte dei casi tale lirica segue la serie delle 15 canzoni nell'ordine boccaccio insieme alla ballata Imi son pargoletta costituendo la cosiddetta appendice A presente in 26 testimoni nel manoscritto maruccelliano la canzone trilingue si ritrova sola nel mezzo della serie di canzoni dantesche a seguire una canzone fortemente connotata in senso civile se aggiungiamo che il manoscritto dello Stefani presenta un ordine delle rime di Dante che non rispecchia quelli più diffusi e non è solidale nemmeno con i suoi collaterali credo si converrà che questo codice meriti un'attenzione peculiare in uno studio della ricezione di Dante anche e non solo per il fatto che il suo copista Andrea Stefani in quanto musicista ha un profilo particolare veniamo adesso alle conclusioni la testimonianza del libro di Andrea Stefani credo che abbia messo bene in luce come l'atto materiale di riscrivere le rime della Lighieri in molteplici e diverse combinazioni tra loro e con altri testi poetici e non sia uno dei fattori che hanno modellato la funzione Dante e che ha certamente contribuito all'istituzionalizzazione di Dante come autore nella tradizione italiana anche in momenti in cui la Lighieri non costituiva né l'unico né il preferito modello letterario e culturale l'analisi dei libri come insieme dotati di significato attraverso gli strumenti della filologia materiale sembra quindi un punto di vista non privo di interesse per approfondire tali questioni inoltre tutte le rime apocrife o dubbie che si inseriscono nelle serie sono di estremo interesse e in particolare credo che lo sia la canzone trilingue la storia editoriale di Eiffaus Ries è un ottimo esempio di come maggiori istanze culturali modellino i canoni autoriali dando forma a una determinata funzione autore così che la sua presenza assenza e posizionamento risulta essere spia sintomatica di come si sia determinata la funzione Dante nel tempo e nello spazio dalle epoche più antiche fino alla nostra contemporaneità da Firenze al mondo intero grazie bene questa prima parte della prima sessione del convegno si conclude qui con ampio anticipo quindi penso che possiamo goderci la mostra con un po' più di relax a più tardi diversamente dalla prima parte ci troveremo di fronte a contributi più variegati ma comunque orientati in sequenza su Petrarca e Boccaccio per cui chiamo a parlare per primo Giovanni Cascio dell'Università di Messina per le segesi della seconda ecloca di Petrarca tra le prime prove della musa pastorale petrarchesca figura l'egloga Argus composta con ogni probabilità nella Tardestale del 1346 è destinata dopo una precocissima circolazione incisivamente documentata dalla sua inclusione nell'Uzilbaldone laurenziano del Boccaccio a diventare seconda tra dodici nella testura definitiva del Bucolicum Carmen l'enigmatico tessuto delle Bucoliche sollecitò la curiosità dei primi lettori i quali come indicano precise testimonianze tra cui spicca la prefazio a liber sine nomine faceva una gara per chiedere all'autore di svelare l'allegoria sottesa ai versi l'umanista dal canto suo consapevole dell'ambiguitas di tale genere letterario diveniva il primo esegeta di se stesso fornendo tramite epistole le chiavi di lettura per almeno tre dei suoi carmi pastorali una di queste lettere è la dispersa sette o varia 49 a Barbato da Sulmona nella quale Francesco scostava il velo sui sensi nascosti di Argus la relazione odierna avrà per oggetto proprio la missiva all'influente funzionario della corte di Napoli tale indagine rappresenta un'ansa di un più ampio cantiere di lavoro sui commenti antichi al bucoli con Carmen che anche nell'ottica dell'accertamento della loro possibile composizione sulla scorta di materiali risalenti al Petrarca stesso non può prescindere da una mirata comparazione con quelle linee di autoesegesi certamente autoriali fatti circolare dall'umanista prima di procedere a un'analisi dei suoi contenuti alla ricostruzione della sua vicenda compositiva pare opportuno dare un breve quadro della fortuna di questa epistola nella storia degli studi essa venne pubblicata per la prima volta nel 1863 da Giuseppe Fracassetti come lettera 49esima della compagine delle varie il curatore ne prelevava il testo da un codice sigrato H che altro non è se non il celbe autografo del certaldese quattro anni più tardi lo stesso Fracassetti ne traduceva il testo corredandolo di una breve annotazione storica le cui considerazioni che la volevano inviata all'umanista di Sulmona il 18 gennaio del 1347 sono state confermate nel loro impianto complessivo tra gli altri dalle autorevole voci di Ernest H. Wilkins e in anni più recenti di Michele Feo il testo della missiva poi è stato riproposto senza allargamento della base testimoniale e senza sostanziali differenze rispetto alla vulgata ottocentesca nelle successive edizioni a stampa la varia 49 è costituita da due momenti essenziali il primo è la presentazione di Lelio Lello di Pietro Stefano Tosetti mentre nel secondo entra in scena Barbato e con lui gli amici della corte di Napoli essa consta di due sezioni in prosa un breve biglietto di raccomandazione per il Tosetti seguito da un più lungo poscritto con il quale Petrarca su invito di Lelio faceva aggiungere ai sodali partenopei la seconda egluga e insieme a essa taluni annotazioni esegetiche finalizzate a chiarirne alcuni snodi particolarmente significativi ad accompagnare le sezioni in prosa per i sentieri della tradizione ci sono due componimenti inversi se la presenza di Argus può sembrare scontata meno lo è quella di un epigramma sull'elio noto a partire dalla classificazione fatta da Wilkins come pistola metrica varia 5 vedete nella schermata un prospetto dei quattro item che combinandosi variamente vanno a costituire il testo di varia 49 la disposizione dei vari nuclei della lettera è quella impostasi a partire dall'edizione fra cassetti dalla recenzio condotta principalmente sulla scorta del censimento dei codici del petrarca ma allargata ad altri database informatici che va considerata ancora in progress è emersa un quadro testimoniale piuttosto frammentato ecco vedete nella diapositiva 3 un primo elenco dei testimoni dell'epistola le sigle sono nella quasi totalità dei casi quelle impiegate da Vittorio Rossi nell'edizione nazionale delle familiari mentre in quest'altra schermata ho raggruppato i testimoni sulla base delle sezioni trasmesse e del loro ordinamento in quest'altra ancora invece viene proposta una rappresentazione plastica della varia distribuzione degli item lo zibaldone laurenziano da una parte il manoscritto di Siviglia dall'altra all'elenco dei manoscritti precedentemente proiettato va aggiunto come testimonianza di tradizione indiretta il codice parigino latino 14.845 che trasmette il commento di Barbato alla familiare 12.2 del Petrarca nel quale si legge un riferimento alla dispersa in questione su cui avremo modo di tornare più avanti la collazione completa dei testimoni ammenoti offre vista l'eseguità del testo pochi elementi utili alla delineazione di uno stemma codicum tratti macrostrutturali comuni tuttavia corroborati da alcune varie lezioni sulle quali sarà necessaria una riflessione caso per caso sembrano circoscrivere due sottogruppi che chiameremo rispettivamente A e B da una parte ZL e VAT ed R limitatamente al breve segmento testuale tramandato tra l'altra dall'altra KIG col O MGLB e VTN mentre MGLB e O con i loro descritti col e VTN parrebbero discendere da un ulteriore anello intermedio che denominiamo B1 il quadro che emerge da questo qualidoscopio di combinazioni pone diversi problemi a vari livelli sui quali si ritornerà più avanti conviene cominciare dalle poche certezze l'escussione della tradizione permette senz'altro di restaurare il testo in almeno due loci li vediamo insieme se e quod tibis scribo iupide nostre egregio egregio sibi demum utaccipiat queso cui su mercurium recommenda nicil paterni sui ac dominici imperi recusantem vale mi frater l'intera tradizione manoscritta concorda nel trasmettere dictum demum e lettura erronea del fracassetti impostasi anche nelle edizioni successive va da sé che la testura risultante da questo restauro è più piana petrarca sta chiedendo a barbato che un comune amico definito affettuosamente jupiter nostre legga la lettera quasi fosse a lui personalmente indirizzata gli antichi commentatori lo identificano in giovanni barrili alto dignitario angioino b ceterum ut egloge uius facili or sensus sit nove disper argumentum de quoic mensio est pastorem oculatum circonspectissimum dominum regem qui etipse populorum suorum totus oculius pastor furat importari argumentum non dà alcun senso anzi crea ambiguità perché le egloge non solo quelle petrarcesche erano di solito corredate di argumenta qui si impone per la prima volta a argus l'autore sta con ogni evidenza offrendo la decrittazione del personaggio sotto le cui spoglie viene adombrato re roberto a ulteriore conferma si vuole far notare come nel resto della missiva petrarca sveli le identità di ideo fizia e silvio rispettivamente giovanni barrili barbato e petrarca stesso di più difficile soluzione è la questione dell'impianto complessivo del documento le domande alle quali dare una risposta che scaturiscono dal carattere mobile polimorfico che esso assume diversi testimoni sono almeno due quali componenti formavano il tessuto originario dell'epistola qual è l'ordinamento dato dall'autore l'uno e l'altro interrogativo in realtà ruotano intorno all'epigramma il quale riveste nell'economia complessiva della dispersa un ruolo strategico dall'analisi dei suoi contenuti sembra potersi ricostruire la seguente vicenda petrarca aveva composto la lettera di raccomandazione per l'elio da trasmettere a barbato e per suo tramite al barrili l'elio aveva insistito perché inviasse in epoletania anche il testo della bucolica che aveva per protagonista re roberto e gli uomini della sua corte nel far questo allega un lungo post scriptum nel cui ordito oltre ad essere spiegate le ragioni dell'invio vengono intramati alcuni fili di taglio esegetico e l'epigramma che esso fosse già in origine parte integrante della varia pare potersi postulare dal carattere unitario almeno su questo specifico aspetto della tradizione manoscritta che reca l'epigramma congiuntamente agli altri item e inoltre il fatto che il codice A la torre di metrica varia 5 extravagante e nel codice A il breve componimento sia preceduto da rubrica che lo vuole indirizzato a barbato e indizio che il copista di A lo aveva prelevato da un manoscritto che lo tramandava insieme al resto della lettera in posizione vestibolare e la schermata 7 ma è dal commento alla Iantandem composto dallo stesso funzionario Angiurino che arriva alla conferma definitiva nella prossima diapositiva la numero 8 ho riportato il passo da cui si evince chiaramente che l'epigramma era componente costitutiva della lettera inviata al Sfulmonese Nessuna novità dunque su questo versante già fra Cassetti nell'allestire il testo della varia pubblicava l'epigramma insieme al resto dell'epistola prelevandolo tuttavia non direttamente dallo Zibaldone Laurenziano ma dalla trascrizione fatta nella seconda metà del Settecento dal Desad sulla scorta del codice Riccardiano 907 il problema più spinoso è quello della sua collocazione va certamente ridiscussa la proposta territoriale del Fra Cassetti che stampava il testo dell'epigramma in calcio all'epistola dal momento che essa non trova riscontro alcuno nella tradizione e appare per giunta aporedica sul piano della logica conviene ribadire infatti che per esplicita volontà dell'autore a chiudere l'epistola doveva essere di seguito o forse in una scedola separata il testo di Argus uno scenario possibile è che il carme fosse stato collocato di seguito al nucleo originario della lettera tra la prima sezione in prosa e il post scriptum dunque soluzione questa che oltre ad essere attestata da un manipolo di manoscritti troverebbe una qualche affinità sul piano formale nella produzione del Petrarca dal momento che parecchie epistole presentano una tale struttura latamente prosimetrica nella quale un testo in prosa che svolgeva una funzione meramente trasmissiva segue un appendice in versi non è tuttavia questo il caso della nostra dispersa perché pare più probabile che la lettera presentasse la struttura testimoniata dallo Zibaldone del Boccaccio dal Vaticano latino 3355 e dal Riccardiano 907 avendo a disposizione un epigramma composto probabilmente in quintorno di mesi Petrarca non trova di meglio per presentare l'elio che affidarsi exabrupto ai suoi versi la successiva parte in prosa ne costituisce una sorta di piccolo autocommento ma a questo punto credo sia utile leggere l'epigramma nel suo contesto saltiamo i versi e andiamo direttamente alla sezione in prosa che questa potesse essere la versione licenziata dal Petrarca pare potersi evince dal dimostrativo hoc che apre la sezione in prosa esso infatti sembrerebbe configurare una precisa ripresa dei contenuti dell'epigramma e da escludere che si tratti di un deittico con il quale l'autore intendeva introdurre al destinatario l'elio dalle cui mani il sulmonese riceveva la raccomandazione oltre che per la debolezza della tenuta logica del discorso per l'irritualità di una tale designazione dal momento che sappiamo come egli fosse solito impiegare altre formule per riferirsi ai messi o agli amici a cui era stato affidato il compito di recapitare i suoi messaggi epistolari prima tra tutte l'hator presentium la varia 49 colpisce per la singolarità della sua struttura risultato della conflazio precedentemente descritta struttura che tuttavia si concilia senza problemi con la funzione di meno servizio che Edsa doveva svolgere la sua mancata inclusione nell'epistolario maggiore del resto pare indicativa di come l'autore non l'abbia considerata un prodotto letterario all'altezza delle altre sorores la sua stessa sopravvivenza sarà da attribuire al fervore dei primi clienti dell'opera del Petrarca alcuni dei quali non mancarono di resecare dall'insieme le due sezioni più riuscite il delizioso epigramma per l'elio e la sezione esegetica che come abbiamo avuto modo di osservare godettero di una propria circolazione extravagante la terza parte della lettera definita post scriptum perché preceduto dalla formula di saluto ovale e in fondo il vero corpo dell'epistola la duplice presentazione di l'elio non è che l'introduzione del messaggio che a Petrarca sta più a cuore ovvero l'ecloga e la sua esegesi il primo ovale avrebbe dunque quasi la funzione pratica di riorientare la direzione del discorso in definitiva la varia 49 ci offre nella sua tipicità un precoce prezioso spaccato dei modi della diffusione di idee scritti all'interno dell'inner circle degli amici del padre dell'umanesimo grazie grazie a Giovanni Cascio ora si può accomodare la dottoressa Valeria Guarna dell'università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara La vita di Petrarca di Antonio Lelli e il volgarizzamento della posterità prego grazie gli anni venti del cinquecento aprono secondo una nota definizione del Carducci la seconda stagione dei commenti petrarcheschi tra questi giunto a noi in forma manoscritta è il commento conosciuto come vita del Petrarca dell'erudito romano Antonio Lelli composta tra il 23 e il 27 o al più tardi il 28 l'opera nasce nell'ambito di una ricostruzione biografica del Petrarca per diventare sin da subito un commento alle opere del poeta il commento si colloca tra le serie di vite più propriamente dette quelle della raccolta solertiana per intenderci e i lavori esegetici i fioriti nel XVI secolo Vellutello Gesualdo solo per citarne alcuni tuttavia il titolo vita del Petrarca non è aggiunta postuma ma preciso volere dell'autore il quale dichiara cito tale opera si potrà chiamare vita del Petrarca cioè per la quale si possa avere il Petrarca vivo e non morto intendendo cioè appunto quello che egli in ciasche suo poema già volsi dire il commento viene composto per così dire programmaticamente come vuole lo stesso Lelli cito ancora per dichiarare gli luoghi difficili delle opere vulgari facendo menzione se non di tutte almeno della maggior parte delle luci difficili e quelli dichiarare l'esercizio esegetico di Lelli si sviluppa a partire dall'epistola ai posteri della quale vengono esaminati i singoli passaggi interpretati alla luce dell'intera opera petarchesca con una maggiore attenzione rivolta ora a ererum vulgarium fragmenta ora al materiale epistolografico Lelli si serve per l'appunto di una grande quantità di testi di petarcheschi da cui all'occorrenza riprende passi ritenuti funzionali alla trattazione le citazioni innestate all'interno della trattazione vengono riportate nella loro versione originale così però non è per l'epistola posteritati della quale Lelli fornisce il testo volgarizzandolo la versione di Lelli mira con evidenza una resa fedele dell'originale latino senza omissioni aggiunte si tratta del primo esempio del genere ad oggi noto seguito qualche anno più tardi da quello di Silvano da Venafro il quale però agisce in maniera più licenziosa abbreviandone il testo in più luoghi aggiungendo notizie intorno alla figura di Laura fino ad oggi la vita nota solo in forma manoscritta è stata più volte utilizzata negli studi petarcheschi più che altro vi si fa accenno tuttavia manca uno studio approfondito che ricostruisca le fonti utilizzate dal suo autore e ripercorra l'iter compositivo dell'opera in un saggio apparso nel 1988 Frasso riportava all'attenzione di studiosi la figura di Antonio Lelli sottolineando l'importanza della vita di Petrarca sia per le ricerche sul petarchismo cinquecentesco sia per la conoscenza dell'attività filologica volgare svolta nei primi anni del Cinquecento a Roma nel contributo Frasso si soffermava su una serie di documenti appartenuti al banco di lavoro dell'erudito romano contribuendo in tal modo a individuare prezioso materiale per lo studio dell'opera nuove indagini dunque non potranno che riprendere da qui nell'ambito delle mie ricerche sull'opera di Lelli ho avuto modo di approfondire alcuni aspetti in vista dell'edizione critica e commentata della vita in questa sede mi soffermerò sul volgresimento dell'epistola petrarchesca cercando di accennare a due questioni la ricostruzione filologica del testo e l'analisi della traduzione quanto alla questione filologica ad oggi la vita del petrarca è trasmessa da quattro manoscritti non autografi un ricardiano un ambrosiano e due corsiniani tutti e quattro i manoscritti sono del XVI secolo e a questi se ne aggiunge anche in realtà un quinto conservato alla nazionale di Firenze del fondo Gino Capponi ma è un manoscritto che riporta solo la sezione riguardanti i fatti di Cola di Rienzo e sembra essere stato compilato da una mano secentesca e quindi ai fini della ricostruzione del testo non è da prendere in considerazione preciso anche che la vita è di una mola abbastanza consistente come si possono vedere le carte di ciascun manoscritto prima di procedere ad esamina delle lezioni è opportuno chiarire che per una parte della vita già altri studiosi hanno proposto uno stemma brevemente nella vita del Petrarca è riportata la frottola di Ridero Granvoglia la numero 213 della raccolta solertiana delle disperse e la frottola ha suscitato un viace dibattito sia per quanto riguarda l'attribuzione a Petrarca sia per la costituzione del testo in questa sede la questione della paternità non è pertinente la ricostruzione filologica solo in parte questo perché lo stemma che è stato proposto per stessa affermazione di chi se ne è occupato è valido limitatamente alla frottola a ciò si aggiunga che la valutazione ecdotica è stata realizzata su una tipologia testuale quella della frottola che gioca su un lessico non ovvio ed è costruita sulla successione almeno apparentemente incoerente degli enunciati imposta dal genere citato e riprendo qui le parole di Aldo Menichetti il quale continua in questa recensione dichiarando che l'acclaramento delle relazioni tra i manoscritti e la stesura di uno stemma risultano in termini lacmaniani stretti molto ardui perché con un testo simile la nozione di errore diventa quanto mai aleatoria dunque la questione filologica è tuttora aperta dagli accertamenti critico-testuali che ho finora condotto in modo parziale sul vulgarizzamento della posterità è possibile ipotizzare al vertice di un probabile stemma la presenza di un archetipo viziato da almeno tre errori comuni all'intera tradizione qui ne riporto soltanto tre e insomma questi esempi l'ipotesi dell'esistenza di un archetipo è poi avallata dalla presenza di alcune glosse marginali condivise da tutti i miei testimoni uno di queste glosse ad esempio riporta il testo originale latino ma la porzione riportata presenta una lacuna lacuna identica in tutti e tre in tutti e quattro i miei testimoni che riportano il passo originale e altri tipi di rimandi per esempio a rimando a Bernardino Corio rimando alla cronaca di Villani sono rimandi che sono presenti o in tutti i manoscritti oppure soltanto in due e questo perché la ricostruzione dei rapporti tralascia intravedere una configurazione bipartita da un lato si suderebbe il testimone riccardiano e dall'altro quello ambrosiano questi codici oltre a presentare errori propri condividono alcune lezioni non corrette si può poi supporre che i due corsiniani siano descripti seppure non diretti del riccardiano poiché presentano gli errori del manoscritto riccardiano appunto e ne condividono altri che sono da ricondurre a un antigrofo comune diverso da riccardiano anche qui un solo esempio i due corsiniani riportano della sua patria quando in realtà riccardiano e ambrosiano di la sua partita ora stabilire i rapporti tra i sistimoni basandoci solo su questa porzione di testo non sempre si è rivelata operazione immediata poiché il manoscritto ambrosiano presenta le prime carte quelle contenenti la posterità corrotte se la relazione tra i codici risulteranno valide anche per il resto dell'opera l'edizione della vita dovrà essere condotta su uno dei due manoscritti appartenenti ai più alti piani della tradizione ovvero scegliendo tra il riccardiano e l'ambrosiano al momento gli accertamenti sono ancora in corso la seconda questione a cui brevemente accenerò riguarda l'analisi del volgarizzamento nel tentativo di individuare il modello latino dell'epistola utilizzato da Lelli a riguardo torna utile un suggerimento presente nel saggio di Frasso precedentemente ricordato presso la casa natense di Roma si conserva un esemplare dell'edizione quattrocentesca dei trionfi e dei rere un vulgari un fragmenta con rispettivi commenti di Bernardo Licino per i primi e di Francesco Filelfo e Squarciafico per i secondi è una stampa veneziana del 1492 l'esemplare è fittamente annotato soprattutto nella sezione del canzoniere e le postille sono da ricondurre alla mano di Antonio Lelli come conferma una serie di riscontri con altri documenti su cui avrebbe lavorato l'erudito alcune delle annotazioni di Lelli contengono dei rimandi ad altri luoghi testuali e sono accompagnati da specifici riferimenti a numerazioni di carte ad esempio foglio 502 foglio 503 e così via secondo Frasso l'annotatore si sarebbe servito oltre che di vario materiale e manoscritto della stampa veneziana del 1503 che contiene molte delle opere petarchesche la stampa contiene come diciottesimo e ultimo libro delle Sinili stampa pure l'epistola Posteritati ora la domanda che ci si pone è quale potesse essere il modello seguito da Lelli per realizzare il volgarzamento della Posteritati e l'epistola è trasmessa da manoscritti e stampe e si può intanto vedere quali diciamo stampe e manoscritte fossero disponibili al momento in cui lavorava Lelli per quanto riguarda i manoscritti ho condotto le mie ricerche basandomi sugli studi di Carl che per approntare il testo critico della Posteritati utilizza cinque manoscritti e sono questi Ambrosiano Magliabecchiano insomma sono cinque manoscritti dico subito che un recentissimo studio della Ref allarga la base testimoniale fino a dieci testimoni e quindi potrò insomma controllare anche questi altri manoscritti per quanto riguarda invece le stampe Lelli avrebbe potuto avere accesso a quattro stampe l'Incunabolo di Lovanio l'Incunabolo di Basilea e le due stampe veneziane le altre due stampe basilensi non possono essere considerate perché sono del 1554 e dell'81 e Lelli muole intorno al 27-28 e lo studio della tradizione a stampa della lettera si deve sempre a Laura Refe e in un contributo stabilisce come tutte le stampe derivano in realtà dall'Incunabolo di Lovanio e che ogni edizione si caratterizzi per errori e innovazioni proprie ho quindi proceduto col confrontare la traduzione con le varie lezioni sia dei manoscritti sia delle stampe l'individuazione del modello di riferimento non è immediata poiché la comparazione comporta un raffronto tra testo latino e testo volgare eppur trovandosi in una situazione in cui il volgarizzamento di Lelli è estremamente fedele all'originale latino perfino nel mantenimento dell'ordine delle parole a volte a discapito di una costruzione artificiosa che qua ce ne inficia in sé il senso il confronto non può avvenire per unità comparabili direttamente pur con le dovute cautele del caso il raffronto tra versione volgare e testimoni latini ci permette comunque di dare uno sguardo ai materiali che Lelli avrebbe potuto maneggiare questi sono alcuni esempi Lelli traduce nessuna cosa mi potesse essere più grata ora la stampa per esempio quella del 1503 Venezia 2 Ven 2 riporta gratus a fronte del corretto gratius la stessa cosa per gli altri due esempi ovvero la stampa veneziana riporta sempre degli errori cioè gratus sed in patris quando in realtà sed in primis e quindi Lelli traduce correttamente ma in primamente e idem per il terzo esempio ovvero di rivedere Lelli traduce la lezione corretta che si trova però in testimoni diversi dalla veneziana del 1503 ora Lelli in presenza di lezioni non corrette potrebbe essere intervenuto a sanare le mende o per congettura o se avesse avuto modo di visionare più testimoni manoscritti o stampe che fossero optando di volta in volta per la lezione che avvertiva come più corretta un luogo della traduzione però ci consente di osservare il modus operandi di Lelli in maniera più ravvicinata il passo in cui Petrarca racconta di non aver fatto in tempo a scrivere Urbano V morto improvvisamente a proposito dell'impresa fallita di riportare la sede pontificia a Roma è nella vita così tradotto il quale intendendo Urbano V se un poco più fosse visso senza dubbio avrebbe sentito che me fosse parso di la sua partita ora il tratto interessato è di la sua partita di la sua partita corrisponde al latino de eius abitu così si può leggere senza H abitu in due manoscritti e nella stampa di Lovagno nell'Incunabolo Basinense e nella prima stampa veneziana mentre si legge de eius abitu con l'H quindi comportamento nei tre altri restanti tre manoscritti nella stampa veneziana del 1503 ora negli errori prima mostrati se Lelli avesse avuto sotto mano un testimone scorretto potrebbe essere intervenuto o per congettura perché i luoghi insomma lo permettevano o collazionando il testo appunto con altri testimoni ma in presenza di lezioni come questa cioè de eius abitu con l'H o senza H quindi possibilità di tradurre della sua ritorno del suo comportamento in presenza di questa diciamo così lezioni a diafore Lelli doveva aver tradotto senza esitazione il testo che leggeva che aveva sotto mano e infatti per l'esempio che diciamo se nell'originale latino avesse letto appunto abito con l'H avrebbe potuto tradurre del suo comportamento senza per questo intaccare il senso della frase e questo può essere forse dimostrato dal fatto che gli editori moderni Ricci e Denenkel traducono con della sua partenza e Denenkel in inglese about this retreat mentre Villani nonostante nel testo riporti The Eius Habitu quindi senza H traduce del suo comportamento per far vedere proprio che il senso della frase continua ad essere mantenuto casi simili se rintracciati all'interno della vita possono essere validi strumenti per orientarsi tra i codici e le stampe che Lelli dovette avere sotto mano al momento le ricerche sono ancora in corso ma sin da ora è possibile intravedere un banco di lavoro in movimento sul quale saranno passati materiali diversi inoltre Lelli non è un semplice compilatore che si limita a trascrivere passaggi testuali o intercompenimenti siamo di fronte a un erudito appassionato di antiquario amico del Colocci e poeta urbanus degli orti coriciani Lelli nel recuperare testi petarcheschi li avrà avvagliati criticamente sarà intervenuto nei luoghi che avvertiva come non accettabili una ricerca estesa anche agli altri brani riportati nel commento e uno studio approfondito della vita potranno fare luce su quanto appena descritto grazie si può accomodare Martina Mazzetti dell'Università di Firenze nuovi studi sul teseida delle nozze d'Emilia di Giovanni Boccaccio tra filologia d'autore e storia della tradizione per una nuova edizione critica ringrazio innanzitutto per la possibilità datami di essere qui grazie è capitato che in presenza di un autografo si sia abbandonato negli studi di filologia italiana il sentiero della recensio della restante tradizione e manoscritta per privilegiare in maniera a volte quasi idolatrica il testo d'autore l'autografo tale abbandono potrebbe comportare una conseguente mutilazione per dir così su più versanti su quello ecdotico in prima battuta dal momento che un autografo non sempre da solo propone un testo del tutto ricevibile il caso principe come sappiamo rimane quello del manoscritto Hamilton 90 autografo del Decameron viziato tuttavia da guasti meccanici caduta di carte e di fascicoli e da alcuni errori d'autore che solamente la presa in visione della restante tradizione manoscritta può sanare e mutilazione sul versante della storia della tradizione che molto ci può dire non solamente circa le modalità di ricezione del nostro testo ma anche circa le modalità di diffusione adottate dall'autore nei confronti delle proprie opere da alcuni anni la mia attenzione si è rivolta al Teseida poema in ottave che Boccaccio compose verosimilmente tra il 1339 e il 1340 a cavallo quindi del suo ritorno da Napoli a Firenze poema del quale c'è giunto come noto un prezioso autografo il manoscritto acquisti e doni 325 custodito oggi nella biblioteca medicea laurenziana in Firenze datato concordemente tra il 1348 e il 1354 l'unica edizione critica del Teseida oggi rimane quella edita nel 1938 per cura di Salvatore Battaglia è uscita da pochissimo sarà presentata la prossima settimana come saprete l'edizione digitale dell'autografo a cura di Edvige Agostinelli e William Coleman per la sisma e l'edizione del Galluzzo non ho potuto quindi ancora vederla né comprarla ma lo farò quanto prima ovviamente mi interessa molto Battaglia negli anni in cui mise mano all'edizione del poemetto lavorò sopra 27 manoscritti più 5 collazionati solamente per loci critici i risultati della sua indagine filologica confluirono in uno stemma codicum bipartito nelle due famiglie Alfa e Beta e cosa molto importante nella proposta di una sostanziale straneità della tradizione all'autografo laurenziano in forza di alcuni errori presenti nell'acquisti e doni e assenti dal resto della tradizione per lo studioso dunque la famiglia Alfa sarebbe discesa da un altro autografo non pervenuto antecedente il nostro laurenziano la famiglia Beta invece da un ulteriore autografo posteriore a quello laurenziano dove Boccaccio avrebbe provveduto a correggere quegli errori che guastavano l'autografo a noi noto come sappiamo dagli anni 50 in poi soprattutto ad opera di Vittore Branca incominciarono ad essere rinvenuti e registrati innumerevoli testimoni di molte opere boccacciane fino ad allora rimasti sconosciuti tra le quali il Teseida nel 75 il numero dei testimoni del Teseida scovati da Branca nelle biblioteche di tutto il mondo integri e frammentari ammontavano a 66 per parte mia ho messo mano alla classificazione di tutta la tradizione manoscritta del Teseida ad oggi nota e la mia classificazione mi ha condotto al cospetto di uno stemma dato il numero più elevato di testimonianze prese in esame ovviamente più complesso e costituito tuttavia va detto subito da quattro rami e non da due come voleva battaglia dovreste avere un handout che vi è stato distribuito ora da poco no non vi è arrivato forse qualcuno potrebbe prestarlo ai discussant no dovrebbe essere questo qui se vuole posso anche darle il mio tanto io guardo insomma lo metto qui insomma e l' handout comunque lo discuterò più diffusamente dopo comunque vedete che ai punti 1 2 e 3 ho inserito il mio stemma al punto 1 lo stemma semplificato ai piani alti dove lo anticipo mostro l'autografo laurenziano da me siglato la come un archetipo mobile un archetipo in movimento di fatto e le due famiglie alfa e beta discenderebbero dall'autografo in momenti diversi un terzo momento la 3 da un terzo momento da una terza fase dell'autografo discenderebbero i due testimoni P2 da L6 e L6 per una sola porzione del suo testo dal primo libro all'ottavo libro ottava 39 perché dall'ottava 40 al dodicesimo libro L6 si colloca come si vede al punto 3 direttamente entro beta c'è stato chiaramente un cambio di antigrafo e quindi L6 è diviso diciamo in due tronconi nel punto 2 inserisco tutto il mio stemma della famiglia alfa e nel punto 3 lo stemma della famiglia beta la questione più importante e necessaria per me da definire rimaneva quella dell'indipendenza o meno della tradizione rispetto all'autografo quindi se per battaglia come detto la tradizione manoscritta risultava indipendente a fronte dell'autografo stanti alcune discrepanze giudicate dallo studioso insanabili per parte mia riletti attentamente quegli specifici luoghi testuali e constatato che non ve ne erano degli altri ho rilevato come tutti i casi si palesi in maniera piuttosto evidente o come difficili o come lezioni difficili ores autoriali al limite della correttezza lezioni poi normalizzate dai capostipiti di alfa beta ed gli ascendenti di p2 di l6 quindi i quattro rami del mio stemma o invece come piccoli errori tali da richiedere correzioni necessarie e alla portata di qualsiasi copista quindi correzioni di natura poligenetica dirò poi in fondo come ipotizzo anche un inquinamento della diciamo della primissima diffusione forse da parte dell'autore stesso sarebbe suggestivo ipotizzare una cosa del genere cioè boccaccio che inquina direttamente i piani alti alfa beta l'ascendente di p2 e di l6 ma forse in fondo riuscirò a dirlo meglio allora andiamo a vedere quindi postulo dunque che l'intera tradizione manoscritta derivi direttamente dall'autografo in tempi differenti quindi come detto si tratterà a livello di resa grafica dello stemma codicum di rendere la realtà di un autografo in movimento qual è per me di fatto il manoscritto acquisti e doni che l'intera tradizione manoscritta discenda dall'autografo mi sembra oggi un argomento sostenibile penso infatti che non possa in alcun modo essere trascurato il fatto che tutti i movimenti correttori che hanno lasciato tracce materiali nel nostro autografo con rasure e riscritture evidenti compiute da boccaccio tutti questi movimenti correttori sono testimoniati dalla tradizione in maniera convincentemente limpida pur all'interno chiaramente di qualche interessante e inevitabile oscillazione è comunque una tradizione di 66 codici nello specifico andrà detto che la famiglia alfa a eccezione appunto di singoli e sporadici casi ha attesto le lezioni scritte da boccaccio in un primo momento e poi superate nell'autografo la famiglia beta in maniera più compatta di quanto proposto da alfa ma va ricordato che la famiglia alfa appunto è costituita da un numero molto più alto sono 39 codici al contrario presenta a testo la lezione che nell'autografo risulta corretta e che potremmo definire come ultima volontà dell'autore possiamo discutere quindi al punto 4 io ho inserito quattro esempi di errori e varianti d'autore testimoniati dall'autografo testimoniati materialmente con c'è una rasura evidente una riscrittura di boccaccio presenti appunto nella restante tradizione discuterei solamente per motivi di tempo il secondo esempio nel libro 12 all'ottava 77 verso 6 allora come vediamo nello specchietto che ho inserito nell'autografo nell'autografo troviamo a testo la lezione buon pescatore e a lato nel margine sinistro si legge al puntato gran ossia aliter gran quindi ci troviamo di fronte ad un'indubitabile duplicità di lezione che boccaccio volle conservare di fatto anche sappiamo che nell'emilton 90 abbiamo ugualmente cinque varianti lasciate a margine e così per volontà appunto dell'autore e questa è una situazione esattamente identica nell'acquisti e doni gli aggettivi si riferiscono a colui che meglio sa pescare nel fonte amoroso di fatto sono gran gran è una variante a diafora gran pescatore buon pescatore non c'è alcuna non noto alcuna differenza come in altri casi che non ho il tempo qui di illustrare anche per questa variante non ci troviamo di fronte a una situazione simmetrica se la maggior parte dei testimoni di alfa infatti recano a testo la variante gran quattro di essi mostrano la lezione tipica dell'autografo quella che l'autografo a testo buon e che si trova nella famiglia beta come sappiamo questi testimoni di alfa come si può vedere dallo stemma sono manoscritti indipendenti tra di loro e facenti parte di sottogruppi differenti all'interno della sottofamiglia z mi riferisco ai testimoni di alfa l2 l7 l8 e vz1 in questo particolare caso penso che sia razionale immaginare che la situazione dell'autografo laurenziano cioè un attributo a testo e l'altro a margine come variante fosse stata riprodotta nel medesimo modo da alfa entro la sua discendenza e poi i vari testimoni di alfa scelsero la maggior parte di alfa scelse gran pescatore quattro testimoni scelsero buon pescatore è interessante la situazione all'interno della famiglia beta perché l6 che a questa altezza del testo come ho detto prima ne discende perché siamo nel libro dodicesimo quindi l6 si colloca dentro beta sotto gruppo beta 1 a testo l'espressione corrotta il gran pastore non gran pescatore gran pastore ov'è comunque chiara la scelta della variante marginale dell'autografo che quindi anche beta doveva aver riprodotta e non è peregrina secondo me l'idea in base alla quale il copista di l6 si è incappato in una corruzione del genere proprio perché aveva davanti entrambe le varianti e la lezione buon gli avrà messo in mente la nota locuzione evangelica dal Vangelo di Giovanni buon pastore divenuta poi nel testo che andava copiando gran pastore per la scelta proprio della variante marginale quindi anche beta avrà riprodotto entrambe le varianti ce lo testimonia anche il codice da messiglato o no l'oratoriano di Napoli discendente di beta in sua posizione alta perché presenta a testo entrambi gli aggettivi posti sul medesimo rigo senza alcuna perturbazione nel dettato gran buon pescatore quindi come spesso può succedere il copista del manoscritto di Napoli ha inserito a testo la variante marginale e questo però ci conferma a mio parere ancora una volta il fatto che anche beta riproducesse la situazione testuale dell'autografo è uno dei vari esempi che potrei fare di come di fatto diciamo la diffusione delle varianti e degli errori d'autore testimoniati dall'autografo ancorino la tradizione all'autografo stesso non posso diciamo discutere nel punto nel punto 5 ho inserito alcuni alcuni esempi che alcune lezioni di quelle discusse anche nella nota al testo di battaglia che pongono l'autografo contro la tradizione di quelle che prima appunto ho detto che ho reputato o diciamo lezioni difficili Ores al limite dell'errore normalizzate poi dal resto della tradizione o diciamo correzioni alla portata di tutti i copisti correzioni poligenetiche il punto 3 l'esempio 3 del punto 5 meriterebbe una discussione a parte che forse potrà essere fatta dopo non so ma è un sì vado a concludere infatti quindi la mia ipotesi è che tutta la tradizione manoscritta discenda indubbiamente dall'autografo laurenziano e tale ipotesi credo che si avvantaggi anche di quella che è un'altra acquisizione che potrebbe essere un'altra acquisizione della mia ricerca cioè l'aver messo a fuoco un movimento correttorio che tuttavia non definirei redazionale entro la famiglia Alfa che interessa tutta una serie di lezioni per lo più a diafore ma talora anche migliorativi del dettato metrico si tratta di una vera e propria nebulosa di varianti e alcune di queste varianti si trovano in maniera non del tutto razionalizzabile anche nella famiglia beta quindi la mia ipotesi non spiega tutto ma tenta di razionalizzare i fenomeni macroscopici ipotizzo quindi che forse sarebbe suggestivo ipotizzare un boccaccio che lavori sui tavoli alfa beta contemporaneamente forse negli ascendenti anche di P2 e di L6 e quindi inserendo l'autore ad inquinare la tradizione in qualche modo possono essere razionalizzati alcuni fenomeni della tradizione che ancora diciamo devono essere studiati grazie bene può venire il dottor Antonino Antonazzo dell'università di Messina ci parla di lingua fonti e cursus in un dictamen del giovane boccaccio epistola quarta sacre famis grazie dell'esigo epistolario supersite di boccaccio di cui sto allestendo una nuova edizione critica i primi componimenti risalgono al 1339 si tratta come è noto di un gruppo di quattro lettere tradite unicamente dallo zibaldone laurenziano autografo plutio 29.8 eccole crepo celsitudinis a carlo d'angioduca di durazzo mavortis miles a pedrarca nereus anfitritibus destinatario ignoto sacre famis anche in questo caso destinatario ignoto come vedremo queste epistole ad espote per la rasura del nome dell'estensore rimasero per cinque secoli inerti tra i fogli del manoscritto fino al 1830 quando vi si imbattè Sebastiano Ciampi che per la prima volta le dè dalle stampe innescando così un dibattito a vari livelli che sarebbe stato vivo per tutto il resto del secolo all'interno dell'epistolario questi componimenti costituiscono un gruppo compatto non solo in prospettiva cronologica la convergente datazione al 1339 ma soprattutto in virtù della comune genesi letteraria la loro natura è stata infatti da tempo riconosciuta come del tutto peculiare non si tratta di autentiche missive bensì di esercitazioni retoriche dictamina che il giovane boccaccio ancora tutto dentro a quella che branca ha definito selvosa erudizione angioina compose lavorando di cesello da un lato regolando nella struttura secondo i più vulgati precetti dell'ars dictandi e dall'altro forzando nella lingua e lo stile in prove virtuosistiche al limite del funambolismo un latino eccentrico e ricercatamente enigmatico in tessuto di voci peregrine attinte dai lessici e dagli actores più irregolari su tutti come è noto Apuleio di fronte a teste di tale caratura l'editore che disponga di un solo testimone per di più autografo si trova a misurarsi con una serie di problemi del tutto specifici per la verità dopo la scoperta del Ciampi un vero e proprio interesse filologico verso le pistole napoletane si sarebbe acceso solo all'inizio del secolo seguente e sarebbe stata una fiamma breve nel giro di circa un ventennio apparvero due edizioni quella del Traversari 1905 e quella del Massera 1928 con un esile contorno di recensioni e saggi parodi e sabbadini in testa diretti a cimentarsi nell'occasionale saltuario e emendamento di lezioni di dubbia tenuta tra nell'epistola seconda la Mavorti Smiles che attirò episodicamente l'attenzione di alcuni studiosi soprattutto per il coinvolgimento in diretto di Petrarca come destinatario sulle pistole napoletane di fatto calò il silenzio fino alla pubblicazione nel 1992 dell'edizione mondadoriana di Ginetta Uzzas che costituisce l'attuale vulgata in realtà la migliore filologia primo-novecentesca concentrò le proprie forze soprattutto su un aspetto che caratterizza in modo marcato questi testi il cursus parodi e sabbadini più cautamente il primo fecero dell'analisi del cursus una bussola per l'individuazione e il risanamento di corruttelle sotto traccia un approccio proficuo che oggi appare però molto più problematico già in altra occasione ho mostrato come in almeno un paio di casi nell'epistole seconda e terza congetture su questa base si rivelino abusive per eccesso di normalizzazione in questa sede preferisco per motivi di tempo soffermarmi su altri due aspetti del testo che hanno ugualmente sofferto vari gradi di normalizzazione presso i precedenti editori la lingua e le fonti in riferimento all'epistola quarta questa è indirizzata a un non meglio precisato Sacre Famis et Angelice Viro Dilecto Forti un amico conosciuto a Napoli sincero cultore delle arti liberali specie dell'astronomia cui aveva dovuto rinunciare per imposizione della famiglia che lo voleva mercante il quale trovandosi a Barletta era stato coinvolto nelle lotte intestine tra le due fazioni dei marra e dei gatti la vicenda era però finita bene con tanto di matrimonio e il boccaccio sollevato se ne congratulava in chiusura chiedeva in prestito la tebaide di Stazio commentata per trarne copia sull'identificazione di questo bir gli studiosi si sono molto interrogati chi vi ha visto andalo del negro ma osta alla cronologia chi Nicolino di Santo Prospero ma lo stesso proponente si dichiarava scettico chi si è arreso in realtà non è forse neppure corretto sul piano metodologico per questi dictamina in bilico tra invenzione e autobiografia definire sul piano storico un destinatario con assoluta sicurezza vale lo stesso per l'epistola terza ma veniamo al testo sulla specialissima lingua cesellata come si diceva di verbo obsoleta non sempre i vari editori pur con sensibilità diverse si sono astenuti da interventi normalizzatori per esempio nel paragrafo 15 laddove Boccaccio descriveva le imprese guerriere dell'amico Barletta nell'edizione corrente si legge testo e traduzione della Uzzas qui altrove nec non balistis balistaris et fundibularis premunitus longinquas esse adversa saces coeggebbas ed anche provvisto di balestre di balestriere di frombolieri tenevi a distanza le schiere nemiche fundibularis e correzione tacita in ciampi ed esplicita in massera da cui proviene alla Uzzas della lezione del manoscritto fundibularis questa forma con al invece di ul risulta però essere un allotropo ben documentato lo si trova infatti in vari testi dalla vulcata di Girolamo alle cronache di Matteo di Parigi nonché nell'estici coevi Uguccione per esempio conosceva solo questa forma in al perché la riconnetteva al greco balin balin grece latine iacele si veemittere vele fundere dicitur item a balinet funda dicitur fundibbalus fundibbali id est confunda iacens et emittens et dicitur fundibbalarius in eodem sensu la lezione dello zibaldone fundibbalaris andrà pertanto ripristinata a testo più curioso è un altro emendamento ancora una volta dovuto al massere recepito poi dalla Uzzas al paragrafo 7 ossia in quella sezione dell'epistola in cui Boccaccio lo dava la tensione letteraria dell'amico si legge et aquas eliconici fontis furtive gustabas avidius e furtivo assaporavi più avidamente le acque della fontana eliconia qui la lezione del manoscritto è però eliconi che è il genitivo singolare maschile del diffusissimo aggettivo eliconius eliconi eliconium secondo la grafia classica con h iniziale con il luogo della y derivato da elicon il monte elicona sede tradizionale delle muse tutt'al più potrebbe notarsi l'assenza di una seconda ide silenziale eliconi assenza comunque giustificabilissima in ogni caso non c'è ragione di pensare all'aggettivo peraltro tardissimo eliconicus ci sono casi poi in cui le marche della lingua boccacciana si intrecciano al problema delle fonti al paragrafo 22 troviamo infatti un elogio della pace che in realtà è una lunga ripresa letterale di un sermone di sant'agostino oggi ritenuto pseudagostiniano ad accorgersi per primo di questa citazione fu nel 1914 il torraca nelle pagine della sua biografia napoletana del certaldese l'anno successivo sulla base di questa identificazione sabbadini con la patrologia del migno alla mano corresse il testo dell'epistola in un punto e mendoccio è placida lezione del manoscritto in placita correzione che fu poi accolta dal massera e che ancora oggi troviamo nell'edizione a Uzzas tuttavia se è operazione già di per sé molto delicata a correggere un testo autografo diventa ancora più rischioso emendare senza ragioni cogenti una ripresa implicita o esplicita che sia di una qualunque fonte bibliografica nel nostro caso un'edizione critica del sermone pseudagostiniano che peraltro ebbe una larga circolazione purtroppo non esiste ma pare altamente improbabile che Boccaccio leggesse un testo in tutto identico a quello dato dal Migni che nella tradizione del testo del sermone placida sia stata variante concorrente di placita è provata ad esempio dalla tradizione indiretta proprio il lungo passo con l'elogio della pace ebbe non a caso notevole fortuna e fu ripreso in contesti storico-culturali anche tra loro estremamente variegati per tutto il corso del Medioevo e proprio in queste anse della tradizione indiretta troviamo confermata la lezione boccacciana placida per menzionare due casi tra loro remoti la variante placida si trova nella citazione che del sermone pseudagostiniano fa da un lato cesario di Arles quindi siamo al VI secolo e dall'altro il francescano Giovanni Coltellini inizi del XV secolo d'altra parte e qui il discorso sulle fonti si intreccia con le peculiarità della lingua di Boccaccio Guido Martellotti ha limpidamente dimostrato come per il certaldese placidus equivalesse a qui placet ricondotto cioè a placio e non a placo la ragione definitiva dunque per respingere l'emendamento e conservare la lezione autografa placida talvolta poi la presenza di una fonte è stata invece obliterata da una errata lettura paleografica più avanti per esempio nel paragrafo 26 così Boccaccio raccontava di aver avuto notizia del matrimonio dell'amico Udì anche che gli uffici dovuti a Giunone furono a meraviglia compiuti e come credo Imenio tenne giocondo le fiaccole intorno al talamo dei quali fatti tutti mi congratulo quanto posso qui Letus è però una cattiva lettura da parte del Massere e della Uts laddove il manoscritto ha invece Letas è normale infatti nel Boccaccio l'alternanza della A onciale che nello Zibaldone laurenziano è di gran lunga maggioritaria con la A minuscola quest'ultima soprattutto a seguito di lettere con un tratto orizzontale come la T e la F peraltro il caso vuole che proprio la parola successiva Faces presenti la medesima A minuscola riconsiderando poi la storia delle edizioni si trova che già lo scopritore Ciampi e con lui Traversari avevano letto correttamente bisognerà quindi tornare senz'altro a Letas ma questo restauro che già incide sulla struttura e la qualità stilistica del periodo consente per di più di portare alla luce un elemento nuovo e insospettato la Junctura la Junctura Letas Faces è infatti clausola di un trimetro giambico delle Fenisse di Seneca in cui Giocasta rievoca le nozze del figlio Polinice a cui era stata assente Boccaccio nel tratteggiare con pochi tocchi il matrimonio dell'amico lontano dovette rammentare il precedente tragico la lettura delle Fenisse che il certaldese conobbe assai probabilmente sotto il titolo di Tebais come trasmesso cioè dal ramo A della tradizione delle tragedie senecane dovette quindi essere messa a frutto già negli ultimi anni napoletani prima ancora di essere impiegata come ha dimostrato Carlo del Corno nelle leggi di Madonna Fiammetta entro il dialogo tra la protagonista che minaccia il suicidio e la nutrice in conclusione questo è solo un rapido campionario delle numerose insidi ecdotiche che nell'allestimento dell'edizione di un testo che sia tradito da un testimone unico e autografo il filologo spesso a sua sorpresa si trova ad affrontare grazie passiamo ora a Irene Iocca Università di Messina riflessioni di metodo sul testo della caccia di Diana grazie grazie no si ok però lì non si vede ok va bene tanto sui titoli si è sempre troppo audaci in maniera a volte insensata per cui in realtà quella che io vorrei proporvi in questi 15 minuti o giù di lì è una piccola riflessione sulla principalmente sulla qualità degli errori e sulla quantità anche degli errori che si producono nelle tradizioni di testi poetici in volgare mediamente lunghi brevi o mediamente lunghi e soprattutto sui criteri con cui operativamente si valutano e si individuano gli errori utili alla costituzione e alla classificazione dei manoscritti nella costituzione dello STEM per farlo porto il caso della tradizione della caccia di Diana che è un testo che conosco meglio perché l'ho studiato durante il mio durante il mio dottorato di cui ho prodotto un'edizione critica come sapete la caccia di Diana è un poemetto in terzine dantesche di impianto allegorico d'argomento amoroso scritto negli anni 30 del 300 a Napoli alla corte di Re Roberto infatti ha una forte componente encomiastica perché sono celebrate le gesta di 58 donne della corte di Roberto per cui ci sono moltissimi nomi e due grandi cataloghi canti 1 e 9 su 18 complessivi e non dico nient'altro perché passo subito a farvi vedere la scarna e tarda tradizione del poemetto che come vedete è trasmesso da appena 6 testimoni e tarda perché ora io contravvenendo alla consuetudine alfabetica ve li ho ordinati già in ordine cronologico per risparmiare tempo e mi interessa in questo momento darvi confini per cui faccio vedere come il più alto manoscritto che trasmette questo poemetto è assegnabile è un Riccardiano del Riccardiano 1066 conservato a Firenze e è assegnabile alla fine del XIV secolo una visionomia della copia molto diciamo particolare ma su questo ci torneremo mentre invece al capo opposto la più tarda trascrizione del poemetto è conservata in un codice fattizio il secondo 925 della Nazionale di Firenze che è un codice molto interessante che somiglia a quelle che normalmente si chiamano miscellare umanistiche che però come si vede non rigetta nella sua antologia i testi di età media cosa che di solito questi prodotti fanno però insieme alla caccia di Diana ci sono anche altri testi di della stessa insomma dello stesso periodo e dopodiché più di un cenno meritano questi due manoscritti Riccardiano 1060 e Plutio 90 superiore 93 e questi due manoscritti sono stati copiati dalla stessa persona nello stesso luogo e verosimilmente insomma nello stesso periodo cioè negli anni 20 del 400 e il copista si chiama Giovanni Ardinghelli è un copista detenuto e il luogo appunto sono le stinche di Firenze quindi in carcere e in questo momento ci interessano ci interessa particolarmente concentrarci su di loro perché si tratta di due manoscritti indipendenti cioè hanno due antigrafi diversi due modelli diversi e rappresentano con ogni probabilità la migliore e la peggiore copia della caccia di Diana cioè FR1 trasmette la la copia migliore quella più corretta quella che io per esempio ho preso come il mio testimone di base mentre L è la copia peggiore appunto da un punto di vista testuale però questo merita di essere diciamo discusso perché con qualità peggiore del testo intendo dire che il testo di L è caratterizzato da un numero alto di singolari sono circa 200 su un testo vi dovete immaginare di mille versi per cui siamo quasi a una singolare ogni più o meno 5 6 versi ora di queste lezioni singolari non poche possono sono lezioni tutto sommato difendibili cioè non sono errori di patente evidenza che uno può liquidare non le chiamerei ecco a diafore perché poi dopo lo scrutino della tradizione fatto invece sugli errori significativi si escludono però sono lezioni tutto sommato difendibili per darvi un'idea di quante sono richiamo così soltanto perché rappresentativamente colpisce lo stemma di branca per l'amorosa visione perché L trasmette anche l'amorosa visione come vedete lì si chiama P perché è un pluteo comunque è il manoscritto che da solo forma e costituisce una linea di trasmissione del testo dell'amorosa visione voi immaginatevi che si tratta di un testo molto più lungo per cui molte più singolari tutte appunto come quelle della caccia difendibili e branca immagina addirittura che in questo P il nostro L sia il testimone di una terza linea di trasmissione dell'amorosa visione è chiaro che questa è una posizione da rivedere però ecco questo può darvi un'idea della tipologia di copia ora ho insistito su questo punto portando come esempio il caso più clamoroso perché quella di trasmettere un numero consistente di lezioni singolari è una caratteristica comune la maggior parte dei testimoni della caccia e come avremo modo di vedere meglio si tratta per lo più di banalizzazioni che però simili per origine e simili per tipologia possono portare due manoscritti indipendenti a produrre sviluppi identici quindi quello che ci si può chiedere e quello che mi sono chiesta in un testo poetico narrativo medio lungo quante sono le probabilità che verosimilmente due copisti cadano indipendentemente nello stesso errore e soprattutto quali sono i parametri per valutare la poligenesi e ancora più importante quanto la poligenesi incide poi nei ragionamenti stemmatici o diciamo nei criteri di discussione degli errori in termini sempre di costituzione dello stemma e faccio subito un caso della caccia fr2 era il manoscritto più alto era il ricardino 1060 quindi il più antico del simone della caccia è un manoscritto difficile da classificare perché è una trascrizione privata sicuramente è stato trascritto da un non esperto che copiava per se stesso che è sbadato e frettoloso commette davvero un gran numero di sviste però non è un cattivo copista e vi faccio vedere una tipologia un campione di suoi singolari per farvi vedere come in realtà si possono razionalizzare abbastanza bene e come vedete ora io ne propongo quattro ne leggerò una sola ma avrei potuto riempire ben più di una slide almeno quattro o cinque come vedete questa è una tipica banalizzazione prodotta per parallelismo per attrazione leggo solo l'ultimo caso le donne stanno cacciando immaginatevi che la caccia è popolata da tantissime scene appunto di caccia allora queste donne stanno cacciando una serpe e quindi l'hanno vista in una buca gli buttano dentro del fuoco in maniera tale che il fuoco la consumi così che poi lei esca fuori allo scoperto e il poeta dice sostenne questa quella quindi la serpe alquanto queste offese quindi il fuoco poi non potendo più avanti sofferire ed FR2 propaga il sostenne sul sostenere questo è un tipo di errore in cui il copista di FR2 cade di continuo allora credo che questo diciamo quadro esemplificatorio potrebbe essere necessariamente fatto interagire nella valutazione invece di un altro errore per fare un esempio questo L ed FR fanno un ramo delta voi per il momento credetemi sulla parola dopo vi farò vedere un esempio comunque uno dei rami più stabili della tradizione in questo caso lui sta facendo un elenco di donne quindi ora sta parlando però della donna da lui amata per cui dice che per salute delle altre cioè per la salvezza di tutte le altre quasi come una guardiana la funzione tutelare di questa donna nella caccia è diciamo ribadita sin dal primo verso dal primo canto appunto avanti Gio per guidarle tutte e in realtà FR2 e delta leggono per guardarle tutte cioè tute cioè protette e chiaramente questo io credo che sia un caso che alla luce del quadro che abbiamo visto prima abbia un gradiente di congiuntività questo errore veramente molto basso se poi contiamo che non esistono altri errori comuni delta FR2 io credo che questo sia un tipico caso in cui specie da quanto sappiamo dell'identikit della copia e della fisionomia della copia di FR2 non è diciamo significativo non farei un ramo su questo errore e adesso è chiaro che il concetto di errore in questo tipo di tradizione è elastico e cambia spesso con il tipo di tradizione con la quale ci si confronta io ho tentato di ridurre nello studio della caccia al minimo il diciamo il campionario di ciò che andava considerato un errore restringendo appunto grosso modo a questi casi che sono tutti ragionevolmente non attribuibili ecco all'autore una forma nel contesto priva di senso o in assoluto un'omissione più o meno importante un'anomalia metrica imperdonabile che non perdoneremo nemmeno a boccaccio e un'anomalia sintattica altrettanto appunto evidente ora contravvenendo di nuovo a quella che sarebbe la logica vi faccio vedere subito lo stemma per farvi vedere due cose cioè come secondo la mia ipotesi la tradizione si organizza in tre rami e come questi tre rami dipendano da alfa quindi da un capo stipide comune a tutta la tradizione conservata che poi discende chiaramente dall'originale e appunto siccome ho parlato di errori vi faccio vedere soltanto un caso per ciascun gruppo di ciò che io ho considerato errore non ho il tempo di guardarli quindi dirò soltanto che il primo caso è una forma priva di senso come potete vedere nel secondo per individuare delta ci sono due errori abbinati su un unico verso e gamma il gruppo gamma invece è individuato da una dittografia che biancifiore caffettina sono un nome e cognome come dire Irene e Iocca dire biancifiore e caffettina per cui è una dittografia e poi un'omissione sempre abbinati un verso dopo l'altro e questo invece è lo stemma a branca e se io ve li metto vicini potete vedere che le maggiori differenze appunto sono che branca ha due rami e che soprattutto come vedete lui FR2 lo abbina insieme a quello che è il mio beta ma appunto io credo che questa sia una posizione da rivedere tant'è che non sono giunta alle stesse conclusioni ma soprattutto che per lui lui non disegna l'archetipo proprio perché qui arrivo più o meno alla conclusione anche sugli errori d'archetipo non è detto che la poligenesi non possa ecco diciamo gli errori d'archetipo potrebbero essere ancora più difficili degli errori che magari di solito noi utilizziamo per formare le famiglie vi faccio vedere l'unica questa teoria sarebbe l'unica concordanza e lezione erronea di tutta la tradizione è un nome e cognome di una donna c'è Covella d'Anna che viene banalizzato insomma in Covella donna in tutti i manoscritti è inutile dire che questo è un errore che non ha nessuno nessuna delle caratteristiche che si richiedono un errore significativo che si richiedono un errore d'archetipo io credo che sia non sia indicazione su nessuna diciamo su un tipo di parentela tant'è che se guardiamo peraltro cosa succede negli altri luoghi in cui d'Anna c'è nel testo come vedete viene sempre banalizzato in donna sempre con costellazioni diverse per cui appunto è un errore inutile cioè che non ci dà nessuna informazione eppure però la presenza di un archetipo nella tradizione di questo testo si lasciava intuire da più di qualcosa per esempio ad alcune ipermetrie comuni a tutta la tradizione o perlomeno ai piani alti dello stemma come vedete l'idea che mi ero fatta era che Alfa tendesse al ripristino delle forme piene laddove invece le forme erano pocovate leggo soltanto ad esempio gli uccelli cascosigian per l'acquandanto lì dove sarebbe invece gli uccelli e così diciamo questo è un campione chiaramente dopodiché c'era un caso di diffrazione sulla diffrazione ero meno diciamo incerta però comunque non mi sembrava un caso ecco di rimente questo comunque è il canto 11 è l'esordio di Marella Caracciolo che è diciamo la capogruppo di uno degli schieramenti e come vedete tutti i piani alti della tradizione tranne Delta che però non è mai passivo quindi in questo caso propone delle soluzioni che però sono comunque inaccettabili e tutti i manoscritti proponevano a Riella questo mi faceva così supporre o comunque pensare che nell'archetipo comune a tutta la tradizione avesse perso colore oppure fosse caduta per qualche ragione la lettera la lettera M però è vero pure è vero pure che che appunto mancava un errore principe che provasse davvero l'esistenza dell'archetipo cioè era un archetipo sfuggente debole come purtroppo ce ne sono tanti in questo tipo di tradizioni e vi propongo invece un caso del quale nessuno si era accorto me compresa finché non ho cominciato a commentare questo testo perché nel canto 10 nell'episodio di una cattura di un elefante tutti i manoscritti e tutte le edizioni antiche e moderne Mutie, Massera, Branca, Castelchirca e anche la mia in prima battuta al verso 35 leggevano Mariella la ragione per cui accacciare l'elefante insieme a Serella non può essere Marella Caracciolo sta nei versi 52-54 perché è un costume che quando loro uccidono catturano una preda poi portano la testa o la carcassa alla capogruppo come è normale per far vedere che hanno catturato una preda e si legge evidentemente ucciso quello e ritornarono sicuro e a Marella a presentare la testa evidentemente lei non può autopresentarsi la testa essendo quella che l'ha cacciata e poi c'è una seconda ragione se la protagonista di questo episodio non fosse l'altra Caracciolo invece l'Ariella questa sarebbe l'unica cacciatrice a essere soltanto nominata in un catalogo di donne non compiere nessuna azione di caccia davvero e quindi insomma questo mi pare un errore vero che difficilmente è poligenetico e significativo e che probabilmente può essere l'unico utilizzato per così per giustificare l'esistenza di un archetipo comune basta grazie grazie a Irene Iocca può venire Valentina Rovere Università di Roma 3 per una nuova edizione del De Montibus di Boccaccio il valore ecdotico del Carme sull'Arno attendo la presentazione opera geografica della maturità erudita del Boccaccio il De Montibus venne composto dal certaldese a partire dai riscoperti modelli latini dei geografi minori nei termini di un'enciclopedia geografica realizzata a modi dizionario in cui facilmente reperire le informazioni relative alla geografia naturale presente nei testi degli autores il repertorio è strutturato in sette sezioni ciascuna dedicata ad un ente geografico come debitamente indicato nel titolo e ciascuna aperta da un breve prologo al loro interno le sezioni presentano un numero oscillante di voci come si vede dalle 40 delle selve alle 933 dei fiumi ordinate secondo un alquanto preciso rigore alfabetico l'opera risulta conclusa da un articolato ed estremamente interessante epilogo nel quale l'autore rende ragione delle scelte operate e dei criteri compresi quelli filologici utilizzati per la realizzazione del repertorio di quest'opera ad oggi non è ancora stato riconosciuto un manoscritto recante la nota cara bella scrittura di Giovanni Boccaccio l'assenza di un autografo per un'opera come il De Montibus amplifica tuttavia quasi esponenzialmente le difficoltà dell'editore nella ricostruzione del testo queste difficoltà vennero puntualmente nucleate dall'unico editore moderno dell'opera Maglio Pastore Stocchi che nella nota al testo posta a commento della sua edizione mondadoriana giustificava così la scelta di dedicarsi alla ricostruzione non di un'edizione propriamente critica quanto piuttosto di una vulgata dell'opera basti qui segnalare come Pastore Stocchi riconoscesse proprio nella fisionomia del De Montibus nel metodo e nei criteri utilizzati da Boccaccio la maggiore difficoltà nell'approccio se dunque il repertorio si pone come feracissimo terreno di cultura per le più violente deformazioni testuali proprio il numero e la natura stessa degli errori che intervengono a guastare quasi ogni voce rendono la lineare applicazione del metodo lacmaniano di ricerca degli errori e delineazione di uno stemma una procedura disperata a questo deve poi aggiungersi a complicare ulteriormente il quadro il numero elevato di testimoni del testo poste queste sconsolanti premesse si è tentato di muovere almeno qualche passo in avanti nello studio dell'opera e dello studio della sua circolazione a partire da un'analisi estensiva e approfondita della complessiva tradizione manoscritta sia guardando all'aspetto codicologico dei manufatti sia esaminando la struttura generale del testo al fine di riceverne almeno l'impressione di più o meno rilevanti alterazioni circolanti nei manoscritti a conferma della fortuna tutta latina del boccaccio tra quattordicesimo e soprattutto quindicesimo secolo ad oggi la tradizione risulta costituita da 64 codici per la precisione 63 manoscritti più un foglio slegato in termini di paragone si tenga presente che per il decamerone i più recenti studi hanno acclarato una tradizione costituita da 61 manoscritti considerati peraltro nel novero anche i testimoni della protodiffusione le miscellane a fronte di una circolazione almeno apparente di un'unica redazione del testo dalle indagini effettuate estensivamente sui 64 testimoni emerge come peraltro già pastore stocchi aveva annotato nella sua monografia sul demontibus l'oscillazione all'interno della tradizione dei 13 versi del Carme sull'Arno in conclusione al prologo generale alla sezione sui fiumi è Boccaccio stesso a segnalare l'eccezionalità della voce toponomastica relativa all'Arno poiché Fiume Patrio a lui noto e caro fin dalla stessa infanzia l'Arno si sottrae infatti al generale ordine alfabetico e si fa comandante della lunga schiera dei fiumi la descrizione in prosa dell'Arno si articola in due segmenti il primo descrittivo più narrativo il secondo dopo aver delineato il corso del fiume dalla sorgente sugli appennini fino al suo sfociare nel Martirreno Boccaccio introduce il racconto di uno dei tanti avvenimenti che risultano al fiume legato in particolare la penna del grande prosatore si dilunga a narrare sulla base della fonte liviana la sconfitta del condottiero Annibale resa possibile dalla sola forza dell'Arno che quasi dotato di una volontà propria sarebbe esondato al passaggio dell'esercito cartaginese sconfiggendolo e costringendo il generale a rimanere tragicamente assiso sull'unico elefante superstite nel mezzo del letto del fiume alla voce toponomastica in prosa segue nell'edizione il carme in tredici versi Rupibus ex dextris che descrivendo in poesia come si vede quanto delineato dal certaldese nella prima parte della voce toponomastica sembra fare d'appendà ammetrico alla narrazione guardando però alla tradizione manoscritta proprio questi versi risultano ad una prima analisi l'elemento che più oscilla per presenza assenza e posizione non considerando nel numero il foglio slegato ed escludendo anche quattro codici per i quali non ho ancora avuto modo di accertare la situazione testuale sui 59 manoscritti rimanenti solo 15 risultano latori del carme prima di dare inizio alla disamina di tali codici merita di essere segnalata la tradizione stravagante del carme non tanto o non solo per la sua presenza in uno zibaldone secentesco questo conservato presso la biblioteca vaticana e collettore di testi vari tra loro accumunati da un qualche legame con la famiglia Barberini quanto per la sua presenza nel più che noto zibaldone sacchetti sullo stesso foglio celebra la critica per la presenza dell'epitaffio boccacciano per Pino e Ciampi della Tosa riconosciuto da Domenico de Robertis e recante insieme l'epitaffio petrarchesco quelli danteschi e quello boccacciano con l'incipit dell'addizio salutatiana vengono infatti riportati a despoti i tredici versi sull'Arno come ben noto con il testamento del 1374 boccaccio affidò la propria biblioteca al frate agostiniano Martino da Signa che aveva l'onera alla propria morte di lasciarla sine alico a diminuzione al convento agostiniano di Santo Spirito a Firenze di cui lui stesso era diventato priore dall'85 tuttavia quando nel 1451 venne redatto l'inventario della parva libreria dove per lo più confluirono i manoscritti del certaldese il grande assente fra le opere latine del boccaccio era proprio il suo demontibus assente quindi almeno dal 1451 una copia dell'enciclopedia geografica tuttavia doveva pure essere conservata a Santo Spirito almeno intorno al 1411-12 dipende dalla datazione che usava il copista se lì il monaco tedesco Simone Grimm la trascrisse in un codice oggi conservato a Ravenna con segnatura 397 l'ipotesi più economica è naturalmente che il monaco copiasse proprio dal testimone boccaccesco del demontibus o eventualmente da un apografo adesso vicino a questo codice deve essere affiancato in un posto di rilievo il manoscritto Vaticano Barberiniano latino 330 questo testimone corrisponde infatti ad un apografo di un demontibus appartenuto niente meno che al cancelliere fiorentino Coluccio Salutati e venne copiato nei primi due decenni del 400 da un non ancora ben definito Antonio di Serettore Castancollida Todi che fu però copissa tanto scrupoloso da essersi attenuto all'antigrafo al punto da trascriverne la sottoscrizione se da un lato il codice va così ad aggiungersi ai testi del boccaccio che il cancelliere possedeva si tratta di una genealogia deorum e di un demoliere busclaris dall'altro assume un importante ruolo nella tradizione dell'opera geografica pur non facendo parte come d'altronde il codice oggi a Ravenna del nucleo di testimoni antiquiores del demontibus se già infatti in vita erano attestati gli scambi di codici tra boccacce salutati basti a titolo esemplificativo ricordare il caso dell'ausonio recentemente ricostruito da Marco Petoletti per confermare come il cancelliere si rivolgesse proprio alla biblioteca di Santo Spirito per ottenere copia dei testi del certaldese a conferma del legame per ora supposto che esisterebbe tra i due manoscritti appena citati ed un ipotetico ma probabile testimone del demontibus depositato a Santo Spirito entra finalmente in gioco il carme sull'Arno il Ravennate e il Barberiniano sono infatti dell'intera tradizione controllata gli unici due codici in cui il carme è trasmesso dopo l'epilogo all'opera a questi deve essere aggiunto il manoscritto arleiano 5387 della British Library unico codice che viceversa riporta il carme non in posizione finale ma ancora prima dell'incipit del demontibus con la medesima rubrica scusate per la qualità delle immagini che già si ritrova nel testimone copiato da Simone Crimm e che detto per inciso torna identica anche nello zibaldone secentesco citato prima posta questa situazione conseguenziale è stata la scelta di guardare la tradizione sub specie Arni oltre ai 44 manoscritti del tutto privi dei tredici versi e rimangono così i tre codici sovramenzionati che presentano il carme in posizione di rilievo o a inizio o a fine opera e ulteriori dodici codici recanti rupi bus ex dextris di seguito alla voce in prosa sul fiume fiorentino purtroppo si sono persi dei dati tra questi dodici manoscritti cinque testimoni risultano ulteriormente accomunati da un'emblematica caratteristica cinque manoscritti contro sette sono infatti privi dell'epilogo metodologico precisando sin da ora come non mi sia stato possibile visionare direttamente il manoscritto parigino latino 14.627 e come il punto di riferimento preso per le disamine di cui tra poco si dirà sia stata ancora l'edizione pastore Stocchi ho così considerato i 14 manoscritti ho effettuato innanzitutto la collazione di quei testi che debitamente possono essere considerati la cornice dell'opera vale a dire prologo generale prologhi alle sette sezioni ed epilogo qualora presente ho ugualmente collazionato la voce prosastica relativa all'arno e naturalmente i 13 versi del carme infine ho soprattutto focalizzato la mia attenzione su quella che può essere considerata la microstruttura dell'opera analizzando cioè le voci toponomastiche nel loro complesso oltre ai normali dati di collazione rispetto alle voci delle sezioni si sono presentati come era prevedibile trattandosi di un'opera indicizzata secondo ordine alfabetico i seguenti casi di anomalia assenza di toponimi non trascritti dal copista rari ma presenti casi di aggiunta di toponimi semplice inversione nell'ordine delle voci spostamento in un punto diverso della sezione di una o di un insieme di voci casi di allineamento di toponimi con creazioni di voce originariamente successive e infine reduplicazioni di voci inizialmente unite muovendo dal presupposto che queste diverse alterazioni testuali presentino una maggiore o minore possibilità di aver avuto origine per poligenesi nulla vieta ad esempio che diversi copisti a fronte di diversi antigrafi tralasciassero di trascrivere le medesime voci l'analisi così compiuta ha portato ad una prima identificazione di quelle che ad oggi parrebbero famiglie testuali diverse nella consapevolezza però che un'effettiva conferma in tal senso potrà venire solo dalla disanima complessiva delle testimonianze pare più opportuno in questa sede non tanto dilungarsi in elaborazioni ipotetiche di dati per approdare a considerazioni tutte da revisionare al momento del confronto con i restanti 44 manoscritti quanto piuttosto fornire alcuni esempi di qualche caso significativo emerso durante le ricerche il primo caso riguarda uno spostamento di voci mentre nell'edizione mondadoriana e questo lo posso anticipare in alcuni dei 44 manoscritti senza carme sull'arno i due fiumi xantus e xantus si trovano collocati quasi alla fine della sezione nei manoscritti controllati compreso il ravennato e il barberiniano i due toponimi presentano una grafia diversa posto che in questa forma sembri assumere maggiore plausibilità e senso l'indicazione fornita dal boccaccio di un uso alternativo da parte degli auctores che altro non sarebbe se non un uso differente di grafia quello che sembra rilevante è che oltre ad una modifica dell'iniziale le due voci presentino in tutti e 14 manoscritti una differente posizione nell'ordinamento si trovano cioè all'interno dei fiumi inizianti per sibilante come la correttezza alfabetica effettivamente prevedrebbe il seguente caso di concrezione di voci si riscontra invece in 4 dei 5 manoscritti con il carme sull'arno ma senza l'epilogo sono coinvolti due monti con un nome molto simile Gage e Gagus entrambi collocati in Asia Minore e che lo stesso boccaccio ipotizza nella realtà corrispondere ad un unico monte credo idem cum superiori suggerisce infatti il certaldese al termine della seconda voce ebbene in questi 4 manoscritti per un chiaro sotto mem o mem i due toponimi finiscono davvero per diventare un'unica montagna forse si riportando alla realtà dei fatti ma certamente facendo perdere il significato che la considerazione del boccaccio avrebbe dovuto avere in questo modo in questi manoscritti una suggestione del boccaccio probabilmente peraltro corretta finisce per identificare il monte Gage dell'Asia Minore con il monte Gabaro in terra promessa che nell'ordine alfabetico lo precede infine il caso forse più significativo relativo alla conclusione del prologo alla sezione sui fiumi dopo aver segnalato l'infrazione dell'ordine alfabetico ammessa per l'Arno in virtù del legame affettivo boccaccio con forti destinatari dell'opera siano ben tranquilli lettori in quanto all'ordine alfabetico perché con l'eccezione riservata al fiume di Firenze questo sarà attentamente rispettato per le restanti voci non considerando i tre manoscritti Ravennate Vaticano e Erleiano che hanno appunto l'Arno in una posizione diversa sugli undici restanti che presentano i versi di seguito alla voce in prosa in dieci casi interviene una rilevante modifica non solo boccaccio rassicurerebbe sull'ordine delle voci ma annuncerebbe contestualmente di voler trattare in forma metrica del fiume cui già ha garantito una posizione di rilievo innovazione non da poco questa mi pare soprattutto se si tiene conto che in questi stessi testimoni appena conclusa la narrazione dell'episodio di Annibale viene introdotto un ulteriore elemento di passaggio ad metra devenien dum est dopo la prosa la poesia a chi si debbano queste innovazioni in quale posizione l'ultima volontà del boccaccio prevedeva dovesse essere collocato il carme sull'Arno sono solo alcune delle domande cui spero si potrà trovare una risposta proseguendo con l'analisi dei testimoni manoscritti continuando nella raccolta e razionalizzazione dei dati così ottenuti ed estendendo chiaramente la ricerca tutta la tradizione dell'opera la speranza è quella di arrivare al paradosso di rendere possibile una dunaton inseguendo i rivoli che la tradizione ha così percorso studiandone ogni anso almeno quelle che caratterizzano il corso principale del fiume si spera di poter risalire la corrente di quest'opera per arrivare un giorno a riconoscere quanto più da vicino possibile la fonte sorgiva del De Montibus grazie bene quindi abbiamo concluso le nostre relazioni abbiamo soltanto sei minuti di ritardo sul programma anzi forse cinque possiamo dare la parola ai discussant avviciniamoci per conforto reciproco perché si ci avviciniamo per conforto reciproco perché è un bel impegno quello che ci avete dato 12 relazioni sugli argomenti più diversi riuscire a tirare le fila beh non è proprio semplicissimo ma contiamo sulla platea che poi per di più tu ti eri messo d'accordo con Frasso Frasso non è venuto quindi è ancora peggio è ancora peggio infatti in realtà non ero neanche riuscito a mettermi d'accordo con Frasso perché si era defilato già molto per tempo sì non so io comincerei a fare un'osservazione generale di grande soddisfazione nel vedere e nel sentire delle relazioni di questo livello perché intanto sono state raccontate bene queste cose con brevità incisione e precisione per cui anche questo voglio dire che dei giovani sappiano esprimersi così fa molto piacere che i nostri studi si realizzino in testi brevi concisi voglio dire finalmente era ora era ora voglio dire il difetto dei nostri studi di solito è la prolissità e quindi anche questa brevità coatta se vogliamo dai tempi limitatissimi però giova molto giova molto e credo che bisognerebbe insistere su questa linea poi devo ancora notare una lucidità diciamo razionale in tutti questi studi veramente notevole ma veramente notevole perché sono state sono state messe in campo delle metodologie varie con ma molto raffinate peraltro molto raffinate un insegnamento che si ricava subito forse da questa serie di interventi è che ogni testo richiede il suo metodo un poco ma sotto c'è però questa serietà fondamentale questa serietà questa serietà nella volontà di ritrovare delle prove dei dati eccetera e un'altra osservazione generale mi sento di fare nella diciamo fiducia che hanno tutte queste relazioni e tutti questi giovani studiosi giovani colleghi nella possibilità di razionalizzare sempre i dati non c'è mai un atteggiamento di rassegnazione fino in fondo ma anzi sempre la ricerca di qualcosa per riuscire a trovare la strada ma non so anche per dire la strada in situazioni molto difficili nell'ultima relazione abbiamo sentito che ha trovato l'arno come strumento diciamo il carme sull'arno come strumento per dirimere una questione con un numero spaventoso di manoscritti altra voglio dire cosa fondamentale poi ancora noto come la scuola ormai la scuola storica la scuola filologica migliore continua a dare ottimi frutti nell'attenzione per la tradizione anche in sé in sé e per sé e ancora diciamo ancora in generale perché poi vedremo di scendere nei particolari come continui ad essere fondamentale la storia della lingua in queste cose qui abbiamo visto come certi casi si risolvono solo grazie a questo fatto diciamo alla struttura anche alla cognizione della struttura linguistica in genere Selene Vatteroni ha mostrato come alcuni termini sono accettabili perché rientrano nel sistema linguistico non perché ci siano documentati ma anche questo significa molto io credo che dovrei occuparmi prevalentemente dei primi forse interventi che erano intorno a Dante così ci dividiamo un po' il compito poi eventualmente ci intrecciamo dunque allora partiamo dal vado un po' con ordine perché adesso bisogna far mente locale ne avete dette talmente tante cose che sinceramente faccio un po' fatica a ricordarmi l'edizione di Pietro Lighieri di Alvino mi pare che a questo punto si avvii davvero a delle soluzioni concrete visto che in pratica godevamo di una trascrizione molto sì insomma una trascrizione di un manoscritto a questo punto li confrontiamo i monoscritti mi chiedevo e butto lì una domanda quel salmista salustio che non 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 ci sia dietro una abbreviazione salus e cioè salus la salute cioè un riferimento alla bibbia addirittura generica e quindi che è stata scambiata per salustio invece che salus la salute per eccellenza poi ancora ecco Celotto ha messo in evidenza un problema dunque ha detto che il caso dell'ottimo commento riabilita in qualche modo la stemmatica contro chi invece si arrende all'idea soprattutto nel caso dei commenti danteschi che hanno una come sappiamo proliferazione molto rara tradizioni confusissime irredimibili coloro che si adattano invece alla scelta di un manoscritto unico sì è vero è il suo caso però credo che riabiliti che è particolarmente fortunato ed è solo relativo appunto al paradiso dell'ottimo perché il resto invece suscita invece molte cose comunque è vero sì forse non dobbiamo perdere mai le speranze in questo senso fa parte della fiducia di cui si parlava prima quanto alle glosse dell'anonimo Lombardo anche qui abbiamo un caso in qualche misura fortunato dunque era Parisi eccolo lì interessante la possibilità di mescolare due manoscritti diciamo perché sono della stessa mano e quindi abbiamo una garanzia quantomeno dell'uniformità linguistica cosa che altrimenti creava benissimo ecco avrei un dubbio farei attenzione a correggere con la fonte gli errori gli errori di un manoscritto rispetto all'altro cioè la fonte il confronto con le fonti non possono secondo me dare indicazioni su un errore che congiunge tutti i manoscritti cioè la fonte può dirimere a mio avviso solamente due varianti e allora la variante più vicina alla fonte sarà quella buona quando nessuna dei manoscritti mi dà la variante corretta allora secondo me nel caso dei commentatori che sono dei rinomati pasticcioni è da considerare probabilmente come un errore d'autore cioè è l'autore è lo stesso commentatore che legge malamente sbaglia eccetera io le butto lì poi potremo cosa dici potremo richiedere eventualmente risposte forse potrebbero rispondere o ci fermiamo qui forse potrebbero contestarmi rispondere per non disperderci gli volevo diciamo assoggettare uno stesso esercizio di memoria che ho fatto io per ricordare ma no non facciamo i cattivi sì possiamo rispondere se volete io come volete sì effettivamente sì può essere che non conoscendo la qualità della fond non conoscendo la qualità del testo orosiano a disposizione dell'anonimo non diciamo possiamo anche pensare che sia un errore dell'autore ma quello che mi aveva insospettito era la serie di errori uno dopo l'altro nel giro di poche frasi cosa che non diciamo non avviene mai per il resto della tradizione è difficilissimo trovare errori comuni a tutta la tradizione a maggior ragione quando ne avevo contati diciamo due o tre più probanti più cogenti e questo mi aveva fatto insospettire per questo avevo pensato una probabile serie di errori diciamo dovuti al generatore comune sì però diciamo tecnicamente sì è possibile l'errore d'autore come? l'errore d'autore sì 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 però sono sono lezioni che inficiano irrimediabilmente il senso per esempio questo pro out per perit ecco però ci stia ci stia attento perché questi signori qua sono dei compilatori spesso e quindi possono anche fregarsene un pochino del senso cioè bisogna starci un pochino prudenti però benissimo c'è anche da fare a considerazione che nel resto della tradizione diciamo l'anonimo si è sbadato come tutti i commentatori però compilatori anzi però appunto è un caso unico in tutta la tradizione che si concentrano 4-5 errori nel giro di diciamo evidentemente c'è un guasto a monte sì sì perfetto era la serialità che mi aveva fatto immaginare posso intervenire su questo punto tuttavia una cosa è entrare nel testo una cosa è documentare con una nota con un apparato con un ragionamento questa dinamica cioè mi sembra importante notare comunque la differenza dalla fonte e eventualmente sottolinearla altrove che non sia esattamente nel testo forse questa sarebbe la misura la dimensione migliore il paradiso ecco si sente sì sì certo il caso del paradiso il caso del commento del paradiso aiuta diciamo considerazioni nel senso che ho cercato di seguire quello che mi premeva soprattutto dire è che appunto nel caso in cui è consentita una via di razionalizzazione di varianti redazionali in cui insomma è possibile sia escludere che risalgano l'autore e si possano quindi accertare come rifacimenti spuri nel momento in cui decidiamo diciamo così di porci l'obiettivo dell'edizione del testo dell'ottimo in questo caso allora sì si può come dire era soprattutto un invito a cercare soluzioni lacmanianamente rigorose ecco questo però sì il caso dell'ottimo al paradiso diciamo aiuta in questo senso come conosco il suo lavoro so poi che l'ha dimostrato perfettamente quindi ha avuto per rispondere alla questione di Salustius Salmista che ricordava prima dunque mi pare di no non venga da Salus perché nel nel manoscritto Ashburnamiano riporta Salm più simbolo di abbrevazione e invece nel Barberiniano c'è scritto Salustius per esteso e inoltre quando poi va a citare dall'antico testamento il Barberiniano sostituisce a domini duo dunque togliendo la possibilità di un testo biblico ho capito perfetto dunque andiamo avanti scorrendo un attimo la c'è un intervento prego ciao sugli argomenti che sono stati anche già toccati ovviamente mi mi associo a Saverio sulla attenzione e a Daniela sulla grande attenzione che bisogna usare per la correzione ex-fonte non c'è dubbio mi volevo però soffermare sul fatto del Prout che è stato citato poco fa quello sicuramente è un errore ma non è un errore congiuntivo perché è di origine paleografica evidentemente una confusione fra il segno di abbreviazione per pro con il segno di abbreviazione per per le due i di per it della fonte sono state scambiate per una u e ne è nato pro out sicuramente è un errore paleografico e non è congiuntivo ho anche qualche dubbio sulla erroneità dell'errore della prima pagina dell'end out che accomuna s mu e a ho l'impressione che istinto sia solo una banalizzazione rispetto al correttissimo instuprum dovuta all'attentativo probabilmente di leggere qualcosa di interpretare qualcosa che era mal leggibile le due varianti inst cominciano appunto esattamente nella stessa maniera insomma farei un po di attenzione raffinerai un pochino i criteri per la valutazione degli errori e la valutazione della loro capacità congiuntiva Andrea intervengo sulla discussione perché sono arrivato tardi e quindi la prima parte delle relazioni mi è sfuggita però una parte di queste relazioni le conosco sulla questione secondo me veramente cruciale del tentativo di razionalizzazione in termini lacmaniani è vero che sui commenti i commentatori sono pasticcioni hanno tradizioni complesse questo è vero però credo che il caso non sia limitato soltanto al paradiso dell'ottimo almeno per le altre due canti che i tentativi di razionalizzazione stematica sono produttive probabilmente qualcosa si è potuto fare anche per Iacomo della Lana e allora forse proverei come dire a riformulare un po' la questione dell'applicazione del metodo lacmaniano rispetto ai commenti distinguendo tra tipologie di commenti commenti a più forte gradiente di autorialità e più compatti testualmente in cui i meccanismi di coesione e coerenza testuale sono più forti consentono più facilmente soluzioni di tipo lacmaniano la difficoltà si incontra laddove invece procediamo il tasso di compilazione è molto più alto dove come dire si funziona per sistemi di glosse irrelate in quel caso mi pare che sia più complicato del resto forse l'applicazione del metodo lacmaniano nel caso dei commenti come forse di tutti i testi in prosa molto lunghi dovrebbe tener conto di alcune fenomenologie particolari che dovrebbero essere in qualche modo derubricate dalla significatività penso per esempio a tutto un sistema di inversioni che nei testi in prosa lunghi sono frequentissimi l'Ino lo ha credo dimostrato per i testi di aria francese ma mi pare che questo valga farlo con Saverio che certamente queste cose le conosce molto anche per la tradizione dei testi in prosa lunghi allora forse bisogna ricorrere ancora agli strumenti della razionalizzazione del metodo lacmaniano tenendo conto che le tipologie testuali impongono in qualche modo dei correttivi vorrei dire qualcosa no? andiamo avanti vado avanti ancora allora dunque allora abbiamo visto la canzone Virtu che il celmo vesti di cui ha parlato Andrea Manzi devo dire molto convincente allora che non eccolo qua che non sia di Dante mi pare appunto e anche appunto questa però questa origine non settentrionale ma invece toscana tutto sommato anche questa dalle rime parrebbe su questo io non avrei domande se Lino ha qualche osservazione particolare da fare no ora sulla sulla questione dell'origine linguistica le forme che ha citato mi sembrano convincenti però siamo in un'epoca in cui già non escluderei il fatto che in Veneto si possa scrivere un testo come questo così strapieno di Dante di Cavalcanti eccetera in un fiorentino abbastanza sostenibile ecco quindi diciamo non dedurrei necessariamente che è stata scritta da un toscano in toscana ecco sulla base di elementi fra l'altro in rima quindi in una situazione comunque codificata ecco non automaticamente parlante circa la 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 caratterizzazione così fonetica dell'autore ecco ma insomma a parte questo punto di forse un eccessivo determinismo poi per il resto sì sì no il fatto che fosse stata scritta in toscana durante la il soggiorno in toscana di Enrico VII naturalmente è solo una suggestione insomma io credo che i dati storico-linguistici ed ecdotici ci dicano solo che sia stata scritta secondo me da un autore toscano entro il 1335 poi naturalmente era veramente solo a titolo di suggestione di idea certamente da tenere in conto per motivi di tempo non ho potuto dirlo lo evidenzia molto bene Marrani in un suo studio nell'unico studio in cui in realtà si parla di questa canzone Dante è molto ben presente così come Cavalcanti quindi ecco il discorso si può inserire in questo tipo di contesto storico-letterario naturalmente non mi dispiace se sia emerso del determinismo nelle mie parole era semplicemente una suggestione e nulla più i dati ecdotici e storico-linguistici dicono che bisogna rimanere molto cauti su questo punto di Selene Vatteroni abbiamo parlato in effetti la capacità appunto di giustificare delle lezioni appunto perché all'interno del sistema linguistico più che per documentazione e mi pare molto convincente e anche l'uso di fonti come boccaccio quel crespo cispi anche per giustificare la tradizione mi ha convinto molto non so sul campo se avete qualche osservazione no andiamo avanti dovete aver pietà di noi perché tutti i temi sono vari e ci troviamo davvero spiazzati da tanta sapienza perché sono temi molto specifici dunque Andrea Stefani ah sì Laura Banella è molto interessante anche questo perché il significato dell'antologia di che dov'è Laura ah ecco la lì sì significato dell'antologia anche quella questo è diciamo per quanto riguarda quando dicevamo attenzione alla tradizione questo è proprio l'attenzione alla tradizione nel senso cioè è chiaro il testo i testi sono importanti ma sono importanti è importante anche la fruizione dei testi e si comprende la fruizione dei testi anche semplicemente dall'ordinamento devo dire che anche lì abbiamo avuto delle osservazioni molto intelligenti e pertinenti non contesto nulla non mi azzardo tu io dopo dopo va bene poi abbiamo visto l'egloga l'egloga del Petrarca e qui mi ha colpito moltissimo la capacità di utilizzare strumenti plurimi andare in cerca a scavare da più parte per poi arrivare alla conclusione e soprattutto l'utilizzo dell'esegesi antica benvenuto da Imola eccetera che sono stati pieni di beni eccetera cioè l'utilizzo di questi di queste fonti per incastrare e poi il testo e fissarlo insomma oh poi cosa avevamo visto avevamo visto ecco Valeria Guarna che ci ha partito la vita di Petrarca di Lelli dunque sì ecco anche qui anche qui la capacità di muoversi su più terreni dov'è Valeria la capacità di muoversi su più terreni e di indagare quale potesse essere la fonte latina eccetera anche lì devo dire una filologia molto scaffata sono veramente colpito dalla maturità con la quale affrontate questi problemi le tecniche della traduzione eccetera per quanto riguarda invece Martina Mazzetti che ha fatto dunque si è occupata della teseida ecco lo studio degli autografi beh qua Maurizio Fiorilla ha mostrato quanto si può lavorare su un autografo e come l'autografo non non soddisfi necessariamente è così cioè non possiamo affedarci neanche a loro ma infatti devo dire è su questa linea che lavora forse anche il lavoro sulla sulla sull'autografo del teseida e a questo proposito credo che sarebbe utile davvero sviluppare una filologia della coppia cioè occuparsi occuparsi delle copie per capire anche quanto svariano delle copie sicure quanto svariano dall'antigrafo per trovare dei chiaramente certe direzioni le conosciamo già sappiamo benissimo che i coppisti adattano il testo al loro dialetto alla loro lingua ma quanto adattano per esempio anche da un punto di vista della mise en page del e quanto significa di interpretazione anche questo è uno studio di questo tipo che un pochino viene fuori alcune indicazioni vengono fuori quando si lavora sugli autografi perché poi si lavora su una tradizione che dall'autografo dipende e lì ci vorrebbe secondo me un lavoro che qualche persona di grande buona volontà intraprendesse perché significherebbe mettere catalogare dati su dati dopo minuziosi indagini su copie che non è il massimo del divertimento forse questo mi rendo conto però credo che potrebbe essere una strada molto utile da perseguire poi avanti tu Lino un po' sì volentieri io però più che andare avanti così nell'elenco cercherei mi dovete scusare di non tirare fila per carità ma cercare di recuperare un mio possibile filo di da questo pomeriggio che ovviamente mi vede totalmente impari al compito di discutere 12 interventi è un po' una nemesi dieci anni fa avevo buttato lì questa idea del discassant e insomma non pensavo che mi sarei trovato a dover discutere 12 interventi in un pomeriggio e quindi proverei a a riunire un po' le osservazioni sparse che mi è venuto di fare sotto tre capitoli più o meno trasversali il primo è che rispetto al titolo non casuale del convegno come Claudio Ciocciola ci ha illustrato nella sua introduzione e oggi pomeriggio mi sembra che abbiamo avuto molta più tecnica che interpretazione altrimenti sono entrambe parole a cui possiamo dare valori diversi anche senza attribuire nessuna connotazione positiva o negativa a entrambe prendiamole pure entrambi in senso positivo però ecco questo mi sembra un elemento per certi versi diciamo scontato e anche salutare di una filologia che sta al suo compito cioè ad un compito in primo luogo di accertamento e di rigore metodologico noto ma lo noto semplicemente così perché è una costante diciamo dell'epoca forse quindi non tanto imputabile a ciascuno di noi quanto un po' alla situazione forse anche più generale della critica nella quale le nostre filologie si inseriscono noto quanto sia difficile ecco far valere le osservazioni le analisi le argomentazioni filologiche sulla tradizione manoscritta sullo stato dei testi sulla ricostruzione dei testi farle valere su un piano che vada al di là della interpretazione nel senso della dichiarazione letterale del testo ecco e questo quindi vuole essere diciamo una constatazione se vogliamo epocale però forse visto la bellissima iniziativa di questo convegno cioè di dare programmaticamente la parola soltanto ad una generazione più giovane forse vuole essere anche un po' introdurre un elemento problematico non dico un tema da prendere come una sfida ma insomma un po' sì la filologia ha bisogno come il pane per sopravvivere anche accademicamente parlo in una situazione che tutti sappiamo qual è dal punto di vista così della nostra politica universitaria ha bisogno di rendersi indispensabile ad un livello che non è soltanto quello filologico ecco quindi dopodiché insomma non voglio dire che non che non ci sia stato che non sia stato presente questo livello chiamiamolo di interpretazione in senso pieno però forse non era non era in primo piano forse lo era in alcuni interventi per esempio a cominciare dal titolo ma anche poi programmaticamente in quello di Vatteroni che si è dedicata a un'analisi di alcuni passi e di cui ho apprezzato in particolare il tentativo di però prenderli come esemplari di una come dire si lo diceva già del resto Bellombo di una tipologia di una tipologia di contesto linguistico sì ma direi quasi più stilistico ecco di questo di questo credo abbiamo bisogno di questa tipologia di analisi proprio per arrivare ad una caratterizzazione che astragga dal singolo testo è un po' ho ritrovato un tentativo analogo in tutt'altro in un contesto invece molto stemmatico nell'intervento di Iocca anche lì c'era questo tentativo di intervenendo sulla questione della poligenesi di individuare possibili tracce di tipologia di ciò che accade questo credo che sia siano spunti fondamentali per poter valorizzare la singola acquisizione puntuale rendendola visibile rendendola parlante in un contesto anche metodologico più generale il secondo punto che mi ha colpito e che sottolineerei riguarda lo accennavo già adesso le questioni di metodo che sono naturalmente un punto ineliminabile dalla filologia e che però mi sembra che siano state è chiaro che poi in interventi così brevi è anche sano che non si cominci a ridiscutere dall'inizio questioni annose anzi secolari di metodo e che ci si concentri sui singoli punti sui singoli trattazioni però ecco mi ha colpito che accenni non sono stati molti gli accenni problematici al metodo ricordava già Bellomo quello di Celotto del resto ha citato me quindi lo cito anch'io per primo ma abbiamo già su questo verificato insomma la specificità di quel caso e devo dire anche ricito l'intervento di Iocca perché anche lì c'è stato un tentativo un po' anche confrontandosi con Branca di precisare fino a che punto possiamo applicare una serie di criteri una serie di istituti che in realtà avrebbero bisogno di essere approfonditi molti degli stemmi che continuiamo a utilizzare sono fatti su varianti assolutamente su errori assolutamente poligenetici e quando sono fatti su errori però ecco accanto a questo mi è apparso che moltissimi interventi abbiano parlato tranquillamente di stemmi quindi forse c'è per i commenti danteschi un qualche problema da applicare all'Ackman ma per altri versi l'Ackman mi sembra io che vengo da un campo dove invece tocca sempre battagliare di più soprattutto all'estero per rendere percepibili le ragioni di un ragionamento l'Ackman sono lieto di vedere che va abbastanza liscio come l'acqua il fatto di disegnare uno stemma anzi in alcuni casi poi lo stemma giustamente perché questo è il suo fine viene anche applicato cioè sulla base dello stemma si valutano le varianti a seconda di come si distribuiscono nello stemma diversi di voi l'hanno fatto e quindi c'è una fiducia come dicevi come dicevi tu forse ripeto l'abitudine che ho a frequentare filologia romanza quindi ambienti molto più scettici mi lascia un po' sorpreso ma positivamente sorpreso come anche ho notato che si parla non è emerso molto un aspetto che invece in altri contesti va per la maggiore cioè quello della cosiddetta filologia materiale mi sembra che il termine sia stato evocato una volta sola oggi pomeriggio e anche se naturalmente alcune cose sono sono emerse mi sembra mi sembra che fosse mi ero appuntato ah beh sì Alvino ha parlato di paratesto della paragrafatura nei due manoscritti della diversa paragrafatura certo sulla paragrafatura è veramente difficile capire quale dei due manoscritti abbia ragione quale torto può essere benissimo diciamo un fattore in quanto paratestuale del tutto indipendente dal modello autoriale sottostante l'altro invece intervento che ha che ha toccato questo aspetto cioè l'aspetto della configurazione anche materiale dei manoscritti è quello di Banella sul sul canzoniere maruscelliano e lì mi è restata un po' una 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 curiosità nel senso che appunto nella nel modo in cui lei ha delineato questa diversa tipologia di antologie miscellane costruzioni intenzionali e ragionate e invece assembramenti non così ragionati da parte del copista del compilatore mi è restata la curiosità di capire questo ordinamento così singolare delle canzoni di Dante se ci si può individuare dietro una qualche razza una qualche disegno ecco a parte il fatto di mettere all'inizio in seconda posizione la canzone trilingue che certo è singolare ma ecco per il resto forse lì si può cercare di appunto ipotizzare o almeno porsi la domanda se ci sia un qualche livello interpretativo dietro questa analisi non sempre c'è però la domanda almeno richiede di essere posta per il resto sugli stemmi in alcuni casi ripeto la fiducia può darsi può darsi che la brevità nella quale si è stati costretti a restringervi abbia dato un'impressione un po' falsata chiaramente quando uno fa vedere uno stemma e dice non posso dimostrarlo si resta un po' così ma nessuno di voi ha potuto ovviamente dimostrarlo ecco però ci sono alcuni punti che bisognerebbe cioè bisognerebbe aver presente lo dico appunto dalla parrocchia della filologia romanza in cui siamo costretti a ipergiustificare alcune scelte metodologiche forse un po' più di giustificazione non farebbe male lo dico ripeto non per quello che ho sentito oggi ma per il retroterra che sicuramente c'è dietro questi vostri interventi e per esempio Celotto ha parlato di archetipo e di difficoltà di ipotizzare redazioni di attribuire redazioni diverse in uno stemma in cui si individua un archetipo questo è diciamo una posizione forse un po' eccessivamente statica abbiamo varie relazioni poi hanno parlato di boccaccio di autografi eccetera cioè quello è uno dei casi più limpidi in cui si vede che l'autografo e quindi anche l'archetipo può essere tranquillamente presente cioè un autografo in presenza di errori equivale ad un archetipo quindi diciamo non è detto che non ci possa essere un movimento d'autore anche in presenza di dati erronei comuni a tutta la tradizione manoscritta quindi alcune oppure un altro un altro accenno problematico sul quale mi piacerebbe ma probabilmente anche lì è stato per motivi di tempo nell'intervento di Parisi e la sua ricostruzione riguarda quattro manoscritti quelli se non ho capito male che presentano non il commento attorno al testo che naturalmente è una scelta molto diciamo condivisibile e ragionevole resta però un po' la curiosità di sapere cosa succede altrove anche perché non so qui forse per brevità proprio non ho colto però se vi sia se sia possibile sapere come nasce questo testo cioè se nasce in una forma nasce nell'altra perché non escluderei così almeno non sapendone confesso quasi niente non escluderei che nasca in una forma attorno al testo e che quindi i manoscritti che continuano a presentarli in quel modo possano portare qualche novità anche alla distribuzione tematica prima e poi di applicarla già in una sede editoriale come anche un punto che sottolineerei sul quale mi piacerebbe saperne di più è quello che ha detto Guarna circa la situazione tematica complicata della vita di Petrarca in rapporto al dibattuto dibattutissimo dibattutissimo no ma ben dibattuto problema della frottola perché è vero che la frottola ha caratteristiche assolutamente particolari di testo di difficoltà che rendono ancora più difficile l'interpretazione di ciò che avviene nella tradizione manoscritta ma è anche vero che poi i manoscritti sono quelli quindi almeno tenere in sovrapporre i risultati delle due analisi è un è un obiettivo che credo debba essere tenuto tenuto presente come anche un punto che mi piacerebbe approfondire è per quanto riguarda l'intervento di Mazzetti che è quello il cui retroterra conosco meglio avendo visto la tesi di dottorato ma insomma qui però mi sembrava che si fosse già lo stemma è diverso per dire ecco quindi siamo in una situazione già più avanzata però è un caso metodologicamente notevole devo dire non è così unico quindi forse varrebbe la pena mettere in relazione cioè il caso ideale di una tradizione di cui si fa lo stemma conoscendo qual è la verità che sta in cima che non è così ovvio non è così banale però per dire è uscito da poco sono usciti da poco i volumi di Zaggia sull'autografo del del vulgarizzamento degli eroidi del ceffio dove il discorso è un po' analogo abbiamo l'autografo e poi c'è anche un'analisi diciamo così stematica della tradizione e si vede che le cose non sono affatto così più semplici come si potrebbe pensare quindi anche qui mi sembra convincente ricostruire riattribuire il diffondersi della tradizione a un autografo che non è un autografo statico che è un autografo con varianti quello che capisco meno quello su cui credo si debba approfondire o forse è soltanto per brevità che non sono riuscito a cogliere è questo fatto che poi Boccaccio avrebbe ulteriormente inquinato mi sembra che questo fosse il suo termine le cose cioè già l'autografo è un autografo ben complesso con vari strati è normale che da questo da questo autografo discenda è una situazione plurale e stratificata gli esempi che lei faceva vedere presentavano tra l'altro una distribuzione di varianti del tutto incongrua rispetto allo stemma quindi dimostrando che anche poi nel corso della tradizione se lo stemma è quello le cose si intrecciano continuamente quindi mi sembra che anche senza un'ulteriore ipotesi di inquinamento da parte di Boccaccio non c'è dubbio che per fortuna se Dio vuole per il testo critico abbiamo l'autografo il resto si spiega con una dinamica che forse basta ipotizzare qualche contaminazione che nel disegno del suo stemma lì per lì non ho visto e si spiega senza attribuire a Boccaccio un'ulteriore intenzione di modifica che non avremmo attestata se ho ben capito ecco in questa in questa quindi molto ricca direi forse più problematica di quanto non appaia dalla fiducia con cui l'avete affrontata in questa situazione io sottolineerei e questo sarebbe il mio terzo e unico e ultimo filo sottolineerei un aspetto che mi sembra che riguarda se vogliete prima ancora di come sono state affrontate le relazioni gli argomenti proprio su cui vertono le relazioni ma anche poi conseguentemente il modo di affrontarli e cioè è molto presente è molto presente l'esegesi appunto i commenti a Dante i commenti a Petrarca è molto presente in molte relazioni l'hanno l'hanno evocata un'analisi delle fonti per riuscire a capire a delineare a dirimere anche questioni filologiche e anche qui forse anche su questo inserirei un piccolo grano di dubbio diversi di voi l'hanno non che non l'abbiano presente e alcuni l'hanno esplicitato anche e purtroppo non so chi parlava del del Mign come testo a cui si ricorre per verificare il testo della fonte chiaramente ogni fonte medievale ha una sua tradizione e quindi va problematizzato anche quel testo e spesso quando lo si fa si scopre che le cose sono andate in modo diverso cioè che ciò che ci sembra un percorso che ha fatto il nostro testo finale in realtà è un percorso che è già avvenuto all'interno della tradizione del testo fonte io ho presente alcuni approfondimenti sui volgarizzamenti della Bibbia dove quindi qui si tratta di un testo fonte in senso un po' diverso ma insomma per i volgarizzamenti spesso aiutano in modo analogo a quello che aiuta un testo fonte per l'accertamento del testo naturalmente la tradizione della Bibbia è quanto di più spaventoso si possa immaginare però andandosi a controllare alcuni manoscritti toscani della Bibbia latina già si intravedono alcune varianti alcune situazioni che poi spiegano i volgarizzamenti però riprendo invece il filo per dire che esegesi fonti tradizione indiretta come nel caso dell'ultimo intervento di Valentina Ruvere sul De Montibus oppure anche di Antonazzo sulle fonti ma anche in fondo sulla rielaborazione fatta dai copisti in modo anche indipendente dall'interesse che c'è per il testo base questo è emerso in vari interventi ecco mi fanno pensare che mi fanno dire che l'accento senz'altro è più sulla tradizione che usiamo forse questo termine che non ho sentito molto evocare più sulla tradizione che non sui testi e questo forse ha anche a che fare con il con il problema che abbiamo circa l'interpretazione cioè alcuni finché parlavamo dei grandi testi dei grandi autori questi necessitano quasi anche perché l'hanno alle spalle un approccio interpretativo forte se parliamo di volgarizzamenti come sarà per molti altri interventi del convegno oggi pomeriggio di commenti se parliamo di fonti se parliamo di ricezione nella tradizione manoscritta chiaramente spostiamo il fuoco dell'attenzione su un concetto che è meno facilmente giocabile in ambito interpretativo forse avremo bisogno di una elaborazione magari anche teorica non che ne manchi per carità sulla teoria della ricezione ha vissuto buona parte della critica degli ultimi decenni però avremo forse bisogno di una maggior contestualizzazione sottolineatura dell'importanza di una visione che non si fermi o non si soffermi più soltanto ai grandi testi ma che li collochi e apprezzi questa collocazione all'interno di una tradizione che li precede nella loro elaborazione e poi li segue nella loro vita successiva non più controllata dall'autore forse mi sembra che molti se non tutti gli interventi di questa serie in fondo si inseriscono in una prospettiva che si potrebbe definire così e per la quale mi sembra emerga questa emerga bene questo come un fronte come un interesse sul quale approfondire anche ripeto ad un livello che possa ambire a dirsi interpretativo e naturalmente toccherà a voi farlo non certo a me io posso aggiungere una cosa che volevo prima sottolineare come il metodo di Antonazzo nella nella resa dell'edizione da un manoscritto autografo unico eccetera come si sia avvalso di una strumentazione davvero raffinata intanto ho apprezzato molto e credo che sia assai giusto il fatto che il cursus non va normalizzato troppo perché in realtà le regole sono assolutamente oscillanti e poi anche questo utilizzo dei lessici per spiegare le parole così mi ha convinto mi ha convinto moltissimo e poi visto il mio ruolo di discassante non posso non discutere col compagno che ha discusso l'altro discassa no non voglio discutere ma semplicemente precisare a proposito degli errori di archetipo è il mio compito gli errori di archetipo che certamente noi possiamo scambiare per archetipo in realtà i pasticci di un autografo originariamente così ma l'errore di archetipo è vero che non necessariamente mi prova la mancanza di redazioni ma quando sono erroracci che evidentemente di comprensione cioè dipende dal tipo di errore a quel punto l'errore di archetipo mi esclude la redazionalità del testo o non sei convinto no non sono convinto ma per questo semplice ragionamento molto astratto mi rendo conto ma la filologia vive anche di astrazioni mi ci sono un po' scontrato con il caso di Guittone che mi rendo conto è un caso molto particolare ma insomma un autore che ritorna sul suo testo e lo rielabora quindi che ne produce una seconda redazione può farlo in una misura molto diversa diciamo così da caso a caso possiamo pensare a rielaborazioni complessive e invece a micro rielaborazioni è molto verosimile che questo autore X lo faccia fa operi questa rielaborazione su un testo che non è affatto detto che sia stato trascritto da lui medesimo cioè che sia il suo autografo e quindi se è una copia può contenere degli errori di copista ma anche se fosse il suo autografo come ci provano i famosi autografi in primis Boccaccio potrebbe essere un autografo con errori non mi sembra indispensabile ritenere che l'autore riveda parola per parola tutto il suo autografo quindi correggendo gli eventuali errori nel momento in cui si mette a rielaborarne una parte ecco cioè starei attento ad usare questo unico argomento cioè del resto questo non è che lo dico io lo trovate in continuo per tutto cioè stare attento a negare la possibilità come un po' mi sembrava fosse il ragionamento che veniva fuori per l'ottimo a negare la possibilità della mano dell'autore dietro due redazioni soltanto con questo argomento dopodiché mi sembrava che ci fossero altri argomenti anche per essere in dubbio quindi poi va benissimo questo può essere un argomento ma non può essere il solo mi sembra il fatto è che generalmente comunque come dire l'esistenza di due redazioni che risalgono all'autore quello sicuramente escluderebbe l'archetipo cioè nel senso che è difficile pensare che un autore che ritorna sul suo testo producendone una redazione successiva vada a commettere gli stessi errori negli stessi punti parliamo di rielaborazioni non ritocchi e varianti come ha fatto Boccaccio che ha spostato qualche parolina e cosa del genere parliamo di rielaborazioni esatto in rielaborazioni come dire rispetto a due stati in cui però gli elementi in comune sono erronei quindi nello stesso luogo negli stessi lì insomma sarebbe piuttosto difficile a scriverli anche se c'è sempre la possibilità dell'ideografo cioè nel momento in cui ci si avvale di un testo trascritto da altri bisogna e l'autore cioè il testo dell'autore trascritto da un copista sul quale poi per esempio reinterviene l'autore non correggendo tutto ma correggendo soltanto alcuni blocchi intervenendo in certe parti cioè le situazioni naturalmente poi sono tante varie a seconda dei vari casi e ogni testo detta la sua legge e infatti perché appunto se parliamo di rimpasti davvero cospicui credo che Celotto abbia ragione è chiaro che se invece sono spostamenti minimi allora siamo d'accordo che può intervenire sul testo insomma questo è questa forse la riprova che ogni testo richiede i suoi strumenti Cosa dici? C'era qualche altro intervento? Silvia Rizzo Mi parevano rispondere no io forse non ho capito del tutto il discorso del discassante perché a me sembra che invece questa seduta agli oggi pomeriggio sia stata un brillantissimo esempio di una forse nuova filologia cioè forse l'aspetto più interessante che si ricava dagli interventi che abbiamo ascoltato è questo cioè che la tecnica della filologia è prima di tutto la più profonda la più vera interpretazione nessuno di quelli che abbiamo ascoltato oggi pomeriggio ha proceduto senza negli esempi che ha fatto purtroppo limitatissimi dal tempo senza sviscerare fino in fondo il testo di cui parlava faccio due soli esempi cioè Antonazzo che ci ha mostrato come si potesse difendere il testo che prima era stato indebitamente corretto entrando dentro il testo perché individuarne le fonti il tipo di lingua eccetera significa la più alta forma di interpretazione e la gliocca che ha trovato l'elemento decisivo per dimostrare l'esistenza dell'archetipo in un errore che nasceva da un'osservazione strutturale cioè da un'interpretazione complessiva mancava un personaggio tutti i personaggi se ho ben capito tutti i personaggi dopo essere stati nominati agiscono quindi lì ci voleva la riella e non marella ma faccio solo questi due esempi ma mi sembra che proprio l'elemento caratterizzante di questa filologia di cui abbiamo avuto tanti e svariati esempi sia proprio la strettissima compresenza di tecnica e interpretazione forse forse ho non mi sono espresso con con sufficiente chiarezza è chiaro che filologia implica interpretazione però i due e in quanto tale non c'è bisogno diciamo così non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo buona filologia richiede inevitabilmente interpretazione e quindi produce interpretazione del testo di cui si parla e la mia osservazione era mossa dal titolo che è stato dato al convegno e da come un po' Claudio ce l'aveva presentato cioè dal fatto che interpretazione è stata messa in binomio con tecnica ora la filologia ha indispensabile bisogno di una buona tecnica come il pane e appunto io mi sono anche così spinto fino a avanzare qualche sollecitazione in questo nel migliorare anche l'aspetto tecnico dopodiché se la tecnica è una buona tecnica produce automaticamente nuova interpretazione ma bisogna vedere a quale livello di quale livello interpretativo parliamo ecco nel senso che la filologia può benissimo bastare a se stessa nell'interpretare no? il caso per esempio che che veniva ora evocato dell'acquisto cioè l'individuazione dell'archetipo della caccia di Diana più che interessante dal punto di vista dell'individuazione dell'archetipo interessante perché scopre un errore evidente che finora non era stato evidenziato quindi il testo chiaramente viene nuovamente accertato e abbiamo una lezione diversa che ovviamente porta con sé una diversa interpretazione questo però non cambia la percezione critica che abbiamo di quel testo di Boccaccio quindi ovviamente lo accennavo prima parlando forse troppo rapidamente per interpretazione possiamo intendere tantissimi livelli c'è un'interpretazione che automaticamente è il risultato di un'acquisizione filologica e qui mi sembra che siamo perfettamente d'accordo non volevo certo dire che questo aspetto mancasse c'è poi un livello interpretativo che potremmo chiamare più propriamente critico interpretativo che è azione se vogliamo anche del tutto indipendente dalla filologia e che io ritengo ma proprio ad un livello più che disciplinare direi quasi di strategia disciplinare ritengo indispensabile riuscire ad agganciare da parte di chi professa filologia lo dico è una una discussione che c'è stata un po' nel settore nostro e che c'è tuttora nel settore della filologia romanza anche collegato ai problemi che le teologie hanno nel quadro delle scienze di questo trapasso di secolo problema di comunicazione diciamo cito sempre un caso che se volete è ridicolo ma che diventa tutt'altro che ridicolo quando poi proviamo a presentare domanda di finanziamento per un progetto tutti sappiamo che le categorie che contano sono quelle dell'European Research Council e nell'European Research Council trovate letteratura trovate linguistica ma non andate a cercare filologia no? anche perché significa un'altra cosa quando in inglese praticamente sta di fatto che non esiste la possibilità di valorizzare ciò che noi intendiamo per filologia questo naturalmente ha tante ragioni ha tante motivazioni e non ultime quelle che queste cose le decidono fuori d'Italia spesso sia linguisticamente sia culturalmente però in parte almeno ritengo che sia collegabile alla difficoltà che ha la filologia che abbiamo da filologi a essere determinanti anche per chi fa quell'altro tipo di lavoro per chi lavora sugli stessi testi con un'ottica che non è la nostra quindi questa è l'esigenza che io mi sento proprio perché le relazioni sono state tutte molto ricche molto stimolanti molto produttive ecco ritengo che dobbiamo dobbiamo come sistema diciamo così di filologico e questo in fondo è il convegno anche dell'associazione dei filologi dobbiamo riuscire a renderlo produttivo a renderlo significativo anche ad un altro livello ecco anche ad un livello più propriamente non userò l'aggettivo interpretativo per evitare confusione anche più propriamente critico anche più propriamente critico non so se ho fatto ulteriore confusione ma non ci sono altri interventi forse possiamo c'è qualcun altro possiamo chiudere questa sessione e vorrei fare soltanto un'osservazione conclusiva sostanzialmente sulla seconda parte di questa giornata che è più vicina alla mia sensibilità e ai miei interessi complessivamente a me pare che questa nuova filologia sia venuta fuori invece corroborata dagli interventi che abbiamo sentito oggi pomeriggio corroborata perché rispetto ai nomi che sono stati fatti Branca Massera e tutti gli altri a me sembra che si parli molto di più di allargamenti delle basi testimoniali che naturalmente apportano a volte delle dinamiche delle visioni completamente diverse di queste tradizioni manoscritte dei testi mi pare che si parli molto di paleografia che chiaramente oggi aiuta anche con la possibilità maggiore che abbiamo di andare a vedere i manoscritti di vederli online di consultarli significa spesso un ribaltamento delle posizioni pregresse allora io credo che per quello che abbiamo sentito oggi questa nuova filologia esce fuori molto più interdisciplinare di prima e sostanzialmente appunto corroborata da una molto maggiore disponibilità di dati che questi giovani stanno facendo interagire con produttività nelle tradizioni che si ritenevano ormai concluse di testi che possiamo anche criticamente e correttamente interpretare oggi grazie 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 grazie